Benvenuti e bentornati tutti in live qui con me Oggi siamo in live Tornati finalmente con un nuovo microfono Anche perché sentite anche la voce modificata E siamo qui con Emily Wilson Ottimo, perfetto 10-4 Siamo un po' qui in zona controllare perché hanno fatto delle azioni qui in zona Trimite il cellulare muto Musli, ciao Eh, devo vedere Oggi forse sì, ce la faccio È un po' qui in zona Questo è un NPC Abbandonato Ok Che è in ceriferia di voi? Ottimo, meglio Meglio per te 10-4, te sento Che è in ceriferia? Io sono a paleto Ok Sì, ad avulo, siamo vicino al punto guai C'è un undercover a paleto bay Dove c'è fuori dalla palestra È arrivato da voi Eh, sì, è la mia Perché mi hanno Che è rotto Perché mi hanno sparato alla volante Durante i miei seguimenti 10-4 Ok, lasciamola qua Se io ci chiamo il meccanico E ti rispondo E la fa la portare via E almeno non rispondeva Che noia Non risponde Ok Ahem Grazie a tutti. Trovata un'audi gialla, targata 589 AAM, trovata vicino a un punto sospetto, diciamo. Non posso dire te lo perché sono in live. Sono vicino a un punto, però non posso dire dov'è, ecco, diciamo sono a paleto. C'è qualcuno nell'auto? No, non c'è nessuno. L'auto che appartiene? 589 AAM Il veicolo in questione appartiene a Gustavo Salamanca. 8 Bene, bene. Fai una foto? Sì, dice 4. Sarato Gustavo Salamanca non può, beh, a paleto, non può neanche andare a paleto, c'è un'autorizzazione. No, ho sbagliato. Siamo all'incentrale di polizia. Ok. Ma perché non può andare a paleto? Perché la libertà è vigilata. E solo downtown può stare? Solo downtown, se vuole andare poi downtown deve ricomunicarcelo. Ah, ok. Ottimo. Chiamo il meccanico qui per sequestrare l'auto. Ok. Denuncia perché cosa? Chiedigli se hai il furto dell'auto. E niente, cazzo i suoi, allora. Beh, io direi, ho fatto la libertà di loro, che non ci sia la foto, la roba qui. No, non, meglio di no. Non è meglio di sì, il diverso. E me li prendi tu, Ronnie. Io sono a paleto, già. No, per dividere le pattuglie, dico. Ma Ronnie non è neanche radio, dov'è? Ma sei qua sull'inizio. Ah, ok. Eh, no, vai tu. Eh, c'è l'altro. C'è il mio fratello. Eh, il tuo fratello viene con me. Ma lui vuole venire con me. Dove siete? Dove siete spiantati? Faccio la chiamata. Ma ho fatto io che c'è la. Arrivo. In chiacchiai a bettivorda. L'auto è aperta? Sì, è aperta. L'auto è aperta. L'auto è aperta. Grazie a tutti. Puttana. Come puttana? No, non sono una puttana. E' sposato un'auto. Pronto? Dipartimento della Polizia dello Santos, venica. Eh, ma la gente vorrà chiederle per quale motivo lei è in centrale. Eh, l'ho detto, devo fare una piccola denuncia. E riguardo a? Eh, mi hanno rubato il carro, mi hanno rubato. Quale? Stavo andando con un Audi gialla. Un Audi gialla? Stavo a garage centrale e me l'hanno presa. La garage centrale? Quanto tempo fa? Eh, ombre, quando è che stavamo a garage centrale con l'Audi, più o meno? Quanto tempo fa? Eh, io non ho 40 minuti. 40 minuti e un'ora, magari. Ah, 40 minuti, dirittura, un'ora. Eh, sì, un'ora. Eh, chiaro. Se è andata a riprenderla non si stava. Stavo al giro con l'altra macchina. Sì, ma lei quindi, tutta tranquillità, abbandona un'auto a garage centrale aperta, non si fa la domanda. L'hai parcheggiata. Eh, ma non si fa la domanda, qualcuno potrebbe rubargliela. Eh, se pensavo fosseva chiusa, no? Non è che è la sua macchina aperta. Vabbè, comunque, adesso la sua auto è stata ritrovata a Paleto Bay. Perché tu hai queste domande? Eh, perché l'ha trovata a Paleto Bay, la sua macchina. Ah, bene, bene, perfetto. Allora, bene. Allora non si sta più a fare la denuncia. Eh, diciamo che dovrebbe venire a fare la prima. Comunque, vabbè, ehm... Ah, bene, bene, perfetto. Vedrò se trova un meccanico per fargli alla portare in città. Ah, bene, bene, perfetto. Un'ora, grazie. Arrivederci. Era Gustavo Salamanca, ma... voleva denunciare il furto della sua Audi gialla. a downtown, al garage centrale. Dice che aveva preso un'auto insieme ai suoi amici, poi è tornato al garage centrale, che aveva appareggiato l'auto lì, non l'ha più ritrovata. Vabbè, prendete la denuncia? Sì, sì, l'ho presa del telefono, ma l'ho già trovata, è questa qui. Sta arrivando un'auto verso Paleto, comunque. Sì, sì, ma è questa qui l'auto. Adesso la faccio prendere da meccanico. Se c'è, la faccio portare giù. Dipartimento di Polizia dello Santos, mi dica. Sì, pronto, sono l'Avvocato Garcia. Sì, salve. Sì, ascolti Emily, tengo che rinnovare il porto d'armi. Ok, aspetta la centrale, sapevo se ti mando la gente se c'è una pattuglia di vicino, altrimenti vengo io tra un po' però. Ah, vieni. Ciao. Patuglia vicino alla centrale di Polizia. C'è una pattuglia vicino alla centrale di Polizia. Negativo. Qualcuno che può andare a fare un porto d'armi, che in centrale c'è qualcuno che attende. Negativo. Andiamo a mettere palo anche con voi. Negativo, noi siamo dietro di te. Perfetto. Vabbè. Lascia il cadetto. Quale? L'ufficiale. L'ufficiale cadetto. L'ufficiale cadetto. L'ufficiale cadetto. Addio. Sì. Questo è l'Audi? Sì. Adam 2 è diventata Adam 1 e Adam 3 è diventata Adam 2. Sì. 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 Vabbè, prendi la porta laggiù. Eh, ok. C'ho le chiavi dentro, sì. In città. In centrale. Vabbè, adesso ti scorto, non mi superare. Sì. 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 la mando bene, non ti devo fare. Ah, manda perchè così faccio il colpo. Dici 4. Domani, dopo domani. Comunque vado in centrale e che per me lo ricordo. Dici 4. non distruggere quella macchina. E' attento che sto laggando. Mi hai smutato gli sfioraggi per fuori. Sì, sì. Ti vedo. Oh, non riesci a starmi dietro con quella macchina, cazzo. Quanto va la tua? La mia va 280 ora. Io sono ai 238. Cazzo, non tira una minchia, eh. Eh, lo so. Prego, Davide. Eh? 2,45 adesso. 2,50 appena adesso. Minchia, sta tremando, cazzo. Ma in teoria questa qui è più chitata. Senza un pochino va più veloce. Ma dove sei? Sono già all'ospedale. Sono a 307, 8, no? 15, 16, 307. E la madonna, mi sfondano le orecchie ora che è un volume alto. Adesso lo dico subito, un attimo. Lo dico subito, sto guidando. Non vorrei. Quarta, 2,70. Adesso con i salti. Vi richiamando frena davanti all'ospedale e non andare sparato. Sì, sì, vero. Grazie per il follow, comunque, surgical skate 68. Ho fatto. Io ora si tienne una vestita, per favore. Si resta. Salve. Salve, certe. Salve. Parcheggiare. Parcheggiare la centrale. Fatto. Vabbè, un documento. Venga un attimo. No. Le devo dire una cosa, venga. No, non mi toglie il cappello. No, le devo dire una cosa, venga qua. Dove sei il fondo, va? Sì, sì. No. Perché lo scrivi a mano e il foglio? Ancora a mano lo usa? Mi appuntavo lì il suo nome, il cognome per cui è registrato. Questo è l'ordinatore, però, va bene. Si chiama a mano. Su me c'è la nuova tecnologia che il porto d'armi non esiste. Per pistola e fucino o solo pistola? Ah, pistola. Per 39 per favore, per favore un po'. Perché io non posso. Hola. Signora Saramanca, salve, sono sergente Wilson. Ah, claro, dimmene. L'ho fatto riportare la sua Audi gialla in centrale. Ah, buono, buono. Ecco, venga a ritirarla, grazie. Sarò, claro, arrivo subito. Il cappello. Perfetto, salve. Mi ha ceduto il cappello. No. Non penso che lo farò. E arriverà. Solo uno nel dipartimento può tenere il cappello. Esatto. Il primo è stato Ben Coyo. Il secondo è stato Wallace Walker. E il terzo è stato Pasquale Soprano. E il quinto sei... Ma tua sorella. E il quinto sei stato tu, quindi... Mantieni bene il tuo quinto posto, eh. Perché... Non vogliamo un sesto. Ah... Vado a fare io il sesto. No, 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 no. Uno solo, ho detto, può tenerlo. Uno solo alla volta, non due. Uno. Capito, quindi non puoi averlo. Uno solo alla volta nel dipartimento può avere il permesso di usare quel cappello. Quindi no. Vabbè, ciao. 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 Non ti pantuglia. Dai, su, 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 su. Vieni in un secondo. Vieni in un secondo Ronin. Tu Ronin è con me, è vero. Sì, sono portato. Ma cosa... Aspettate qualcosa? Sì, io sto scrivendo all'avvocato Stronzetti per... Io sto aspettando il capitano. Per chi cosa sta aspettando Stronzetti, ecco, qui in centrale? Le parla con noi anche? Sì, no, perché per la pulizia della fedina penale, per poi fare il bando. Quanti reati ha lei? Io... Allora, in teoria, da quel che mi hanno detto sul database della politica, non risulta neanche uno. Non ho tre, tre. Quelli partirei da me. Ah, vabbè, ma quelli non sono reati penali, dai. Sono reati penali. Beh, ehm... Sono sempre reati... Che sono sulla sua pedina, ecco. Poi, ecco, non la rovinano, però sono sempre lì. Si vedono, si sanno che ci sono, ecco. No, però dalla legge nuova, se non mi sbaglio, si parla solo di penale e... Quello è penale. O se non sbaglio, stradale. Vabbè, comunque... Sono reati che rimangono. Vabbè, dovevi parlare con... No, parlo col giudice, vediamo. Poi, beh, decisione sua. Io vorrei poter entrare a far parte del corpo di polizia. E i posti sono pieni. Eh, lo so, lo so, lo so, te lo aspetto. Intanto cerco di capire se posso. Poi, quando, non so, ci si liberano i posti, mi ci burto. Ehm... Ehm... Ma lei mi aveva già fatta la domanda? Ehm, no. Via mail? L'avevo fatto la domanda via mail? Lei sì. Eh, ma mi l'avevo rifiutata? Esatto. Sì, mi aveva detto che non poteva. Ok, esatto. Unesco la fedina, in teoria. Teoria. Ehm... Ho parlato anche con il capitano, mi fa... Eh, vediamo con la sergente, è lei che decide. Sì, però magari è clemente. Io sono sicuro che lei sia una persona clemente. Eh, ma io... Mi è stato detto agli altri, dagli altri, di non prenderla. Cioè, di non... Non prendere perché... Non... Non... Diciamo, sono reatti che aveva, non potevano permetterla di poter entrare nel dipartimento. Eh, lo so, per questo sto aspettando il giudice. Visto questa nuova legge, in teoria, visto che comunque non ho reatti... Penso la stessa cosa l'abbia detto a lui, cioè... Non... Penso che entrambi siete nella stessa situazione. No. Ma lei cosa le ho detto a lei? Io sto aspettando il capitano. No, ma io cosa le ho detto a lei? Guarda i bandi. Ehm... Ma il capitano perché cosa? Perché il capitano tipo è da ore che non c'è più. Eh, lo so, ma devo parla con lui. Vabbè, si aspetta... Aspetta anche ore, eh. Quindi l'ha aperto. Dica. Comunque vabbè, eh... Attenda l'avvocato, tutto, quant'altro, la buona. A vederci. A vederci, a vederci. E i muesli? Sono pieni? Ni. 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 Anche questo, aspetta. Non lo so, dov'è? Ssss. Muserlino, non lo so, dov'è? Forse, sono più bello. Autismo finito. Sarcetta, andiamo in pattuglia? No, sto aspettando, sta la banca, sto aspettando. Devo parlargli. Cioè, devo restituirgli la macchina. Ma io ho visto che... La sala manca si è appena andato, eh. Dove? Stava insieme agli altri. Eh no, ma io li dovevo di venire qui in centrale, l'aspettavo. Ah, ok. Però, se non arrivento poco lo richiamo, perché mi girano. Però, lei che è andato a prendersi la macchina. Infatti lo voglio vedere. Controlla. Eccolo lì. Ehm. Lo richiamo, perché se non arriva, mi girano, lo richiamo. Eccolo lì. Eccolo lì. Waves. Sempre un multato a radio, complimenti. Allora. Allora. Il numero se lo manca è... 179. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Vedi di chi è? Vedi che è la chiamata. Eh no. Eccolo lì. Vedi, dove è morta? Sì, salve? Dove è morta? Dove è morta? Perché c'è morto? Dove sono? Ah qua, venga venga. Ma perché hai l'ha diviso da cadere? Perché c'è un... C'è un medico? È scivolato David. È scivolato? Sì. Ma ehm... No. Ehi, ehi. Qui c'è chiamato coroner. Io non v'ho chiamato un coroner. No, no. Io sono un medico legale. Ehm... Ma sta fare anche le animazioni barra... Io ogni volta che vedo lei ho sempre dei problemi. Eh, io... Mi fa fare il suo lavoro. Ma mio fratello sta male. Eh, ehm... Lo dica alla sua... Per favore, vada, vada. Operi, operi, operi. Non ti fa fare il suo lavoro. Sì, non vorrei che magari... C'è un farino per te, Vittorio. Lasciatelo lavorare, per favore. Lasciatelo lavorare, per favore. Lasciatelo lavorare, per favore. Lasciatelo lavorare, per favore. Lasciatelo lavorare. Lasciatelo lavorare. Ha detto, lasciatelo fare il mio lavoro. Ma il suo lavoro è il coroner, non il medico. No, 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 non dire. Ma è fortuna che c'è lui, è in servizio. Oh, oddio, ma è lei sopra, lo sembra un caretto. Sì, è vero, madonna. È quello che ti ha detto anch'io. Sì, è vero, madonna. Annacciatelo, è un secondo. E beh, minchia, che fa? A me volevo mettermi sto caffè. È bello quello. Però sembra un caretto a fare il giubbotto. È figa. E perdoni, me la porto un coppio, non dà luce, se no. Lo ho capito. Ciao, la vecchia maniera. Ronny, sei un po' fermo come un cecco. Ronny. Ma, stai parlando, ieri ti sei occupato tu di schedare le persone della rapina di ieri? Ieri non c'era. Chi sei occupato di schedare le persone della rapina? Ah, boh. Soprano. Sembra un finanziere, guarda. Eh, dai, ma mi chiamano se senti, sì, ok. Che palle, ma c'è la cazzo di divi... Eh? Oh, odio essere detractivo. Perché? Puoi metterti letteralmente quello che vuoi. Ho capito, però non so che cazzo metti. Come me? Io mi metto sempre quello che voglio. Se me ne ho capito. Ma è brutta la camicia. Cioè, io come sono vestita, cioè, ragazzi. Adesso, ditemi veramente, c'è cosa da cambiare, mio lino. Se una quella lì... Ma questa... A parte questo. E a me me ne sbatte nulla. Perché viste? A parte che... A parte... Se... Mi ricorda Poposchi sta roba qua. Sì, in effetti, anche a me. Comunque Soprano si è appena confessato, io... Cosa ti va a dire... E da... E da... Soprano mi fa la corte da anni. Ma non è vero. Ma chi ta... Soprano mi dice che è una figa da sempre, Soprano. Ma non è vero. Ma chi te l'avevi detto? Ma hai già detto che... Soprano mi fa la corte da mesi. Ma non è vero. Io gli darei una possibilità. Vero che Soprano mi fa la corte da sempre... Eh? Eh? Vero che Soprano mi fa la corte da sempre, Mark? Cosa? È vero, vero. A te? A me, sì. Ma non è vero. Arrivederci, uomini morti. Ma l'ha curato? Ma... È morto! È morto! Madonna. Madonna, io non lo faccio più venire quel medico, non lo faccio più venire. Adesso ho capito. È un coroner quello, ho detto io che non doveva entrare. Gli ha cavato io qualche re ne mi sapeva. Dio mio. Non dovevamo lasciarlo da solo secondo me. È un coroner quello. Non sono una divisa da detective. Ma perché non lo so con il vero proprio. Vieni qua, vieni qua e... Vieni qua e... Ma non è morto, è vivo. Ma non me lo togli il problema. Ma dov'è vivo? Sì, è lì, è lì. Ah, si sta ascondendo il bocchinaro. Bello. One cheer. Sì, vabbè, è facile, ti metti la camicia con i pantaloni brutti, sì. Grazie al cazzo. Quale è brutto? Cosa 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 è brutto? Ti senti no, grazie. Ciao. Ma vado da prendermi palco, ciao. Ah, vado da prendermi palco. Ah, ciao. Wow aspetta, aspetta Mark. gewolio andarci anch'io su palco e ma ci vengo a lui . Viparti io chiamo? Mmmmmmmmmmmm ooooh e basta far più versi. , ho BRAW al che bravo anche bello lui ha visto, ho fai schifo ma è vero e vist我觉得 elegante Non ti vesti mai elegante Ho capito io con i criminali Sarà arrivato o se la manca? Io corro dietro i criminali Che da un milan di forti che hai Mai arrivato o se la manca? Ancora no Senti Ronnie Jackson Vado a cambiarti da ufficiale Sì Ecco perfetto Mi dissocio Scusa Tentato omicidio Questa è tutta la taserata No Arrivederci Oddio Ciao ma la gamba destra dove? Sono elastico E' qua la gamba destra Vediamo Guarda di quanto sono elastico Madonna è anche molto equilibrista Vabbè andiamo Ronnie Andiamo Emilia Ronnie cazzo No Ronnie 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 Lee Ronnie Lee Non va a fare in culo E' qua la riguardo Cosa Alla stessa la manca o va a gira cojoni Però è che se non arriva mi fa girare le scatole Grazie a essere corteggiata da lei mi piace Madonna mi urli in le orecchie per favore Eh certo perché è troppo totalmente buona Alla sua macchina signor salamanca Alla mi gusto essere corteggiata amico Guardi ecco la sua macchina gialla Siede da qui guardi che vuoi il colore giallo Alla giù Alla che cosa L'abbiamo tornata a paleto dietro al benzinaio Punto abbastanza brutto ecco Ma che t'hanno rubata Eh l'avevo parcheggiata al centrale Sti bocchi rari Sì vabbè Vabbè ecco qua la sua macchina La prenda pure e vada pure Ma l'ha guidata lei per caso a portarla qui? No Ah peccato Abbiamo si lasciato quel profumo dentro No mi dispiace Vabbè allora si mettono un alberello per Eh beh esatto Puzza di palle Vabbè, vada a firmare intanto lei, vada a firmare, vada, collega, faccio firmare l'entrata in città del signore Signore, vada, vada, collega, vada Prego, arrivederci Sì, vada a firmare Certo, firmo e me ne vado No, me ne vado proprio, me ne vado Bene Ah, se ne va proprio Certo, me ne vado proprio Ma lei deve firmare l'entrata in città, lui è uscita in città No, no, l'entrata Perfetto, la gente prende i documenti e segni sul documento di firme Ecco qua Arrivederci, buona giornata Sì, giusto Perfetto Vabbè, venga, andiamo a facciare Voi tu invece, Perkins, andate Vabbè, quindi lei non si voleva ne a fumare un bambolone con me I bamboloni si le fumano soli, arrivederci Certo, signora militare si voleva ne a fumare un bambolone con me Certo, signora militare si voleva ne a fumare un bambolone con me Certo, signora militare si voleva ne a fumare un bambolone con me Stavo firmando Stavo firmando Dove si va? Niente di un civile Quello in contramano? Rimanga sul veicolo Rimanga sul veicolo Salve, buonasera Buonasera Spenga fuori il motore Sì Giro Sì Ehm, signore, il contramano? Eh, lo so, lo so Posso vedere per fare i documenti, grazie Con gusto nello, sergente Wilson Ah, piacere Infumenti in tale e le licenze, grazie Perfetto Ecco lì L'ho semuto Oh, collega, faccio un controllo Sì Signore, il numero di registrazione è 040 B o P Il lampeggio di sirene Controlli se ha le patenti digitate regolarmente Se ha le precedenti Adam 1 effettua un traffic stop Alla Flicka Bank in piazza centrale Nessun precedente? Nessun precedente E tutte le patenti digitate regolarmente? Sì La patente B è basta Io qui vedo A, B, B Vabbè La B è regolata Signore, il suo database non risulta che lei ha la patente A e B E quindi vada a farsene Sistema il suo database, ok? Comunque Sul documento ce li ha E se no vada ancora per un po' di giorni Devo farle però la multa Per guidare Sono in live, coglione Va bene, va bene Sono in... Comunque lo faccio Allora mi scusi un attimo Perché stai ascoltando l'auricolare Comunque devo fare la multa quindi dell'1% per guida contro mano Va bene Ok, si rupe nel tablet Allora la multa verrà fatta via telematica Quindi non c'è bisogno di firmare nulla Da solo Stavete il suo condice fiscale Ma detreremo il conto Dal conto bancario Ok Secondo solo che mi ha parlato a base Che è un po' lenta Sì Sì, dimmi Sì, che perché stai nel giro Volta a undercorda Se non stai nel te Eh, perché Dopo lo dico Allora Un attimo solo Che devo È corrotto Oh, che lenta Eh, io qua Sono in totale 142 dollari A posto Abbiamo visto i documenti Arrivederci Buona serata Non vada più contro mano Salve Va bene Mi scusi Arrivederci Oh, andiamo a mettere Sta macchina centrale Va che adesso non serve più Ok 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 Waves Waves Un attimo Un attimo E ragazzi In centro città C'è un elicottero Di medici Michael Ti occupavi tu Sono l'agente Waves Mi dica Ti occupavi tu Dell'arresto di ieri Della rapina Scusi Ti occupavi tu Dell'arresto di ieri Della rapina Che vuol dire Mi occupavo io Di arresti Ti sei occupato tu No Ho fatto L'azione E poi Non ho visto Gli arresti Si deve occupare Dell'arresto Che cavi Che cavi Lacciato In centrale Per arrestare Le persone C'era Sean Ok No ma Di alto grado Per il primo E poi Per gli altri Non lo so Perché poi Io sono andato Io Perché io vedo Solo 21 su 3 Arrestato No infatti Per quello Che ho chiesto Mi informerò C'era Sono sceriffo Giusto Ieri sera Mi ricordo Era in città Era in centrale Sì Ma adesso Ci stanno scrivendo Tramite messaggi Sì va bene Poi Fatemi sapere Se c'era Arrestato Scusi Signorino Potrebbe prendere Provvedimenti Verso chiema Naruti In radio Per favore Sì Waves La ringrazio Perché è diventata Una roba davvero Insopportabile Sì va bene Credo sia Del detective soprano Sì certo Va bene Arrivederci Arrivederci Puoi ripetere Cassandra 10.4 Devo bere Per il mattino In un negozio Non lo so 186 La sto cercando Siamo al benzinaio Quello Vicino Avicino All'altra Discount Del negozio Ti faccio No pari Grazie Solo una C'è Dovrebbe essere 249 Aspetta che bevo Se la voglio Io Oh Wilson Vuoi costate A 50 Madonna Una labbra Sì È un dipartimento E poi Le metto Giusto Aspetta che te le do Te le do 10 Che te le porti Dietro tu Sì Me li metto In macchina Me li metto Vai Vabbè Non andrà Qualcun altro Andrà sul posto Sì Che battuglia Delle respetti Va sul posto Del traffic stop Punto di domanda Adam 2 Parlo solo con voi Perché sei l'unica Battuglia Allora andiamo noi Avete bisogno Di una battuglia Allora ancora Sì per favore Ok 136 Arriviamo Gira a destra Sì a destra Destra Benzina vicino Little vanilla Letto Ascolti la radio Dritto 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 Vai E quello dopo Quello dopo Lì giù Sai Se lo diri dritto Quello no 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 Sinistra No 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 Eh no Non hai capito Perché non è di qua Sì La prossima Giro a sinistra Sì E poi Giro a sinistra Fa il giro Giro tondo Quello vicino All'iscount Giusto Sì ma non Questo qui Vai avanti Dritto Dai sinistra Ora Quello che c'è qui A destra Ora Sì Ecco qua Questo C'è Adam Uno A dove Non l'ho ancora ricevuto A uno E dove Sapo Saramanca Non li conosco Dalla sua auto Fermati 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 Scusa Aspetta l'altra parte Saramanca Ci rivediamo Mi dà le chiavi Le La possibilità Adesso andiamo Sul più scopo Prendolo 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 Alla macchina Eh minchia Non capivo Che parlasse Va bene A posto Solo che Ragazzo Amica La patente Mi è scaduta Ne piace Mi perfumo Ma che fa Quello Vabbè Non li dia Corte Che è peggio Se no Non la finiamo Più Allora Ascolti Per la manovra Che ha fatto Sarà Pericolosa Perché chiaramente Ho fatto Un'inversione Che non poteva fare In modo pericoloso Poteva danneggiare Se E altri Cittadini Quindi le dovrei Togliere la patente E farle La monta Del 5% Esattamente Non la tiene La patente Le faccio La multa E niente Ma poi Io vado Soprano Eh A parte Quello Eh Te l'ho detto Che mi è scaduta Ora Allora Non si senti Quando te Stavamo andando Proprio lì In concessionario Dove sei Arctic? Dove andiamo? Andiamo un po' in giro Adamuno lascia Il posto del traffic stop G4 Non niente C'è Vado solo un po' a capire Dove eravate Però Andiamo all'autostrada No è brutta L'autostrada Non c'è niente da fare In città Fai più molta E chissà dove le hai prese Quelle postate Mi scrivono in chat Quella date Cosoli Lo so Chi aspetta Chi è che te ha scritto Diego Fai Sì è lui Ma che è Ha tagliato la strada Però vabbè Cazzo Brutta cosa Qua che c'è Ma che cazzo Ma che cazzo Un caro fund per questo Ma che cazzo Ci fermiamo? No no Ma che tanto È di proprietà di qualcuno Vedo la targa Cazzo è che si compra Il targo fund Ma no Non l'ha comprato Le hanno venduto gli admin Guarda l'elicottero nostro che vola Ma che la macchina arriva Non farti notare Sì sta Sta superando No ci ha visti Ci ha visti No no Cazzo Cazzo ci ha visti Ma Le hai rilevato la velocità O lo fermi Perché l'hai vista Anzi Prega che non ti sparino Scendo io Qui ad amuno Effettuiamo un traffic stop Un po' dopo il benzina Io li ho trovato la vanilla unicorn Che palle Salve 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 Tutto bene Salve Sono il sergente Wilson Ciao Anthony Senta la tua voce Guarda Ormai la sogna Durante la notte Comunque Quanti siete in macchina In otto? Tre Tre Ok No boh Sparato un barcato Tu pensa che i soprano Viaggiano tutti In un'automobile Esatto Ne abbiamo tante Non ci state tutti Tu pensa che Volevo chiedere Gli sceriffi Se mi prestavano Il fulgone Quello blu Praticamente Per trasportarci tutto Mamma mia Comunque Stavo dicendo Signore che guida Si chiama? Sì È di soprano Posso avere Per fare patente Documenti Sì grazie È di soprano Sì Indipendente Concessione Di paletto B Emily posso rispondere A una chiamata Sì rispondi pure Un attimo Solo facciamo controllo Sì collega Facciamo controllo Al 139 F I E Sto arrivando Dammi 5 minuti Precise Va bene Va bene A dopo Microphone Muted Collega Le sirene Perfetto Allora Vedo che Lei mi ha detto Collega Che Non ha Procedenti Penali E ha Le patente Registrate Correttamente Le vedo Anche Correttamente Signate Sul documento Per questa volta La lascio andare Però vada più piano Perché andava 117 A posto Arrivederci Anthony Forse passerà Con Cornelis Dopo Pino a che ora ci sei Ok a posto Ciao Arrivederci 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 Traffic stop è completato Che è questo? Il gatto Sì Guarda A costa Vicino No è vuota È vuota È crashata Mi sa Perché l'avevo vista Arrivare fin qua Spostagli Sì Che è successo? Niente Mi sa Ha avuto un mancamento Perché ha accelerato la macchina Scusate Ma hai cappellato Non avevo idea Ha avuto un mancamento Penso Perché la fiamma Così Sì C'è un uomo a terra Vai a vedere Ma smetti di fare cazzo di manovre Mettanti dovevo come vuoi Dio mio Tanto sei con lampeggianti Prendiamo le misure Prendiamo le misure Prendiamo le misure Eh ma ma signori che è successo? Siamo prendendo le misure Ma come misure? Ma che cazzo succede? Ma è morto? Sì non ho fatto male No no Purtroppo no Ma quell'elicottero a fuoco Eh no Non ci stare Vi chiesto caro funebre La macchina che sono messa Tutte fuori dai parcheggi? E mi hanno appena tamponato La macchina Non è in piccola Signora Wilson Non è in piccola Non quella Non quelle Parla di caro funebre La macchina viola Che sono completamente fuori Dalle righe Viola? C'è stato appena un incidente Sargento Ah ok C'è stato un incidente E morto il conoscente Se guarda dietro Mi ha sfondato il lotto Ma non è vero Ma lei è autoquila Scusi Io lavoro per l'agenzia funebre Ma non lavorava per Ah quindi è lei Il concorrente di Ma è ovviamente chiusa Scusate ma vi preoccupate di Di una macchina di cuore E di una macchina di gianna Un attimo Cosimo Cosimo Ma lei è il concorrente di Felice Insomma allora E quanto per sé Ecco perché è rincazzata bestia ieri Vabbè io vado a riederci Ma scusate ma ci sta questa macchina ribaltata qua E carolini Scusate ma ci sta questa macchina ribaltata qua Sistemiamo ste macchine Che poi se si fanno le multe hanno anche ragione Scusate poi mi tocca sequestrarvele Portarvele in carcere Buttare via la chiave Attenzione Faccio manovra Uno alla volta Vai veniamo Arrivederci Arrivederci Giro all'ospedale Me ne ho messi perché Giro all'ospedale Guarda Giro all'inic Giro all'inic Giro all'inic Giro all'inic Giro all'inic Sinistra 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 Con il tono qui Andiamo da lì Ok Ce ne stiamo grata Se lo stiamo scappando fortissimo Vabbè vai Non è fina Balla Madonna Se la che Andiamo a vedere Veniamo a vedere Ragazzi Questi qua In libertà vicinata Mi avete fatto sentire che Siete sempre dietro di voi Mi avete fatto sentire la presenza Sì comunque Al vanilla Mi hanno circondato In dieci Raghi Eh ragazzi Sono io Ho detto qualcosa Mi hanno detto qualcosa Che hanno solo circondato Mi hanno circondato Ma io non vedo nessuno Qui al vanilla Allora Di voi agenti Salve Sì sono ancora qui Sono Pace fratello Perfetto Pace Ottimo Tanta pace Perfetto Andiamo Andiamo Perfetto Perché Giambo ci Collega Infatti Non so perché sono scappati Gli altri C'è cosa Perché li faccio Pace 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 Sì Che staccia Che staccia Vabbè Salve Ma S'ha provato conmigo da molto Ma allora Mi risulta molto Difficile crederlo Correbbe No è lì È lì È lì Guardi No è tornato Dei maledire più forti Cioè penso io Faccio tu una parola magica E niente Che cazzo Poi se è la maledizione Qua c'è Voglio fare una straccia Tira tutti sotto Levate Contesemente Adesso sì Levatemi Grazie Vi maledico Ma no Poi no Signora Ora sta facendo La maledizione Di livello 2 Il livello 2 Dei tu C'erano i livelli Ci sono Ma Dov'è che è l'uccello Eccolo qui Più resiste Eccolo qua Più resiste Più Sale il livello Di moledizione Addirittura Chi? Chi? Collega Orca di quell'aviglione Ehi Pezzo di merda Mi è rubato la gamma So che sei stato tu Allora Come la tengo Allora Ma Stato Vabbè Vabbè Brava Maledico Sper Fammi una pigliata Beve Che All'elicottero Sarà maledetto L'elicottero No Non contestare Maledetto L'elicottero Ok L'elicottero Della polizia Sarà Maledetto L'elicottero 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 Maledico Allora Guardi L'elicottero 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 La signorina La signorina Questa Al bancone Si è provato Conmigo E Fratello D'alfieri Io non l'abbia Se prova Anche lei Guardi Ma Come fa Resistere No No Mi dispiace Guardi Guardi No Mi dispiace Mi dispiace Ah è vero Dammi No No signore Vado metterne Sicura Guarda Che Bisicchi E come vuole Dirmelo Lei Adesso Disse No Poi Vede Quando Le Ho cambiato Ficcato Il culo Non lo posso Prendere Tocina Che ha detto Il fratello D'acqua Ma che l'ha finito Ma che l'ha finito Ma lo richiamo Ma non lo so Fumo Per Dimenticare Pronto Senti Senti bello T'ho detto Che tu Non lo devi Fa Quella cosa E ho capito Che fa un effetto Bomba Però non esageriamo Si fuo Che l'ha finito Che l'ha finito E non lo possiamo Fanno Cosa Ma ti ho detto E' stato rimandato Il capodanno cinese Mortacci tua Di una settimana Di lì E non vedi E stanno A morire Tutti Ma che cazzo De capodanno cinese Vuoi fare Mortacci tua Magari Ma ori Ma non è che C'è pure Tulla malattia Oddio 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 Mio Servizi sanitari L'SPD Ci bisogna Lugentemente Di un controllo Medico Oddio Oddio Aiuto Mascherina Mascherina Aiuto Lei è giapponese Cinesa Oddio E' finita Mi sa E' niente E' niente Oh me l'ha mischata No Mi sta toccando No Vabbè Aspettiamo che i bambini Finiscano di giocare Oddio Sa sale il zongo Ma il cinese Non sale Ma lei è cinese O giapponese Qui è il cugino di Jackie Chan Allora Io sono in Cilicinesi Ma in Cilin Non ce l'ho mai stata Quindi Andavo Alla Che è a posto Allora A posto A posto A posto Controlli la sicurezza No 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 Vabbè Hai detto che non mi ha messo in Cina Madonna Però si te le trasporta Oh me l'ha messo in Cilin Oh me l'ha messo in Cilin Ah ok ecco Non più E chiaramente È un sintomo del coronavirus Vabbè Noi tagliamo il disturbo dal vanilla Arrivederci Signori Buon proseguimento di serata Buona fumata Sì sì No la macchina è dietro Ah è vero Oddio Ok perfetto Sarei presa Niente niente Sì sì Chi guida Tu vuoi tu Vai tu Vuoi tu Vuoi tu Vai tu Talla ciccia Vuoi di tu Vedo io La tolleranza In base a ogni singola gente No Cioè Se voglio mettere la tolleranza a zero Il limite a un Vai 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 Sento che sto inchiodo davanti Vare Ta 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 Avvicinati un po' Ok perfetto Quado a controllare Qui Qui Adam 1 Stiamo avvicinati un traffic stop Davanti all'armeria di downtown Ah Non ci passo Vabbè Salve Salve Teo Quanto andava Dice 96 Eri rotto Eri rotto Eri rotto Comunque ci sei passato davanti A una velocità Molto 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 elevata Davvero all'autopera che se non segnava la velocità perché era spento Come mai? Ci avrò pensato avrò premuto sull'acceleratore Vabbè Vabbè Posso fare documenti di identità e le licenze di guida e tutto eccetera Ecco qua Te a volo La macchina è tua? Sì Perfetto Un caro funevere Patente B è validissima Vabbè te la vai pure Però vai piano Va bene grazie Ciao Trafic stop completato Radio 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 No Mosley Viniste in the bando Non c'ho proprio voglia C'è lo sto facendo da tre sere di seguito Ma devi fare un colloquio E cosa c'ho voglia Vedete l'esere di seguito che faccio un colloquio E colloquio e colloquio Non c'ho voglia Niente Coronavirus La velocità che ho preso su era quella davanti al canciaro del vanilla Che all'avore 96 Ma è così poco C'è passato davanti a provo più veloce No no Poi ha tirato dritto Ha accelerato di più dopo Ok Ok io ho un problema Ho la ventola del computer Della scheda video Che si stacca Mi vola letteralmente Eh? Mi vola la ventola della scheda video In che senso si vola? Eh si stacca Non capisco perché Si stacca Bella cosa Devo riattaccarla sempre io Perché la vedo che gli FPS iniziano a calare E per quello Un po' adesso Sì ma devi andare a gioccarla ora Eh si ma non ci vuole Il goal case è sempre aperto Vabbè vai Mio caro capitano Cornelio Sponda Ciao Sì è aperta Sì è aperta Ah ok Madonna che basta l'elicottero Vabbè comunque Si andiamo a vedere Sì contatto andiamo a vedere Ottimo Ciao 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 tesoro Sì Concessionario Rio Vabbè sono Andiamo a concessionario Comunque i mexicai non sono più al vanito eh Noi siamo un attimo all'armaria vicino al porto per trovare delle armi Va bene Settire degli spari vicino al porto per cui Ok Un elicottero qua No Vicino alla garage Se tu vuoi andai pure vai pure Tu vuoi pure Cioè Ah si Io sto qui Vai qui Ryutanaka Ok Si può togli Ryutanaka e Ronnie e Jackson O Adam 3 Ma te ne si vede in pattuglia Scusami ciao carissimo Come stai Se potesse dare di più però va bene così Ottimo ottimo Facciamo quella cosa che dobbiamo fare con Cornelius Buonasera Adesso vedo un po' La lista eh Eh sì Solo che noi stiamo chiudendo Al momento Rive un po' La prima È che Ho un po' di questi da fare eh Vediamo un po' quali Eh vabbè intanto Guardati Ti ritengo il concessionario Cosa tu stai qui E ti metti a vedere tutto Va bene Ok comunque Ci sei giusto per vendere Io ci sono Tu basta che mi fanno squilla Vengo Autore Diciamo Quelle Quelle non di importazione Quelle da città Va bene Guardatele tutte Provatele E poi mi dici Facciamo l'ordine Di queste macchine Tu voi vendete quali? Per lì Noi vendiamo tutte Perché lui è paleto Io sono down down Ah ma adesso Vi hanno unificati Vi hanno visto eh No 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 Io vedo più tipo differenza Downtown E perché ormai tutti i concessionari Sono nostri Ah una volta c'era però La differenza C'è la differenza Sempre Solo che qui ci vedi Dipendente di paleto Che è qui E io sono quello Di downtown Tu mi dici quello che vuoi Lui va a paleto Ottimo Quindi vedete il catalogo Sì È chiuso Così non ti disturba Nessuno E poi con calma Va bene A posto Io mi vado a cambiare I vestiti Sì perfetto Ciao A dopo Oh madonna Teletasporto Palle Devo aspettare Vediamo un po' Le auto Ddm 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 Punto per il paleto bay Sarebbe quello L'e processo Quello sull'autostrada Quello sull'autostrada Prima di paleto bay Ddm 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 ma l'ha data a me per venderla devo solo mettere l'annuncio salve io ero interessato a acquistare un veicolo eh si si volevo sapere se ero interessato a retare la sezione delle moto dico subito il nome si la bugger quanto viene è da 6.000 non so quanto siano le tasse mi perdoni è PDM moto o MMM controllo subito che non ho fatto caso PDM quindi veniva scusatemi 6.600 un attimo no io non lo sono occupato ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, eccomi. Ok. Ecco 7100. Aspetta un attimo. Sì. Mi devo ridare la patente? Un attimo la devo registrare la patente, mi dia un attimo. Ok, ok. 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 Targato 64HISF405 E si canta all'ospedale vecchio Se potete andare a mandare una moto per conto dalle Ok andiamo a prendere la moto nel frattempo Aspetta vedi se magari gli serve qualcosa agli agenti Allora stanno decidendo Allora bello la moto qual era? La bugger La seconda Ok ti intesto un attimo la moto e andiamo a prenderla Siamo di pronto all'ospedale Aspetta sto vicino all'ospedale Ma non quello vecchio Vai verso il vanilla tipo Una banche Sto girando verso il benzinaio del vanilla Dovo fermare Affermativo un veicolo rubato E' stato sotto al cavallo via non lo vedo più E' stato da sinistra Io non lo vedo Ok Massimo tu hai bisogno di qualcosa? Eh ma io mi sto un attimo sprucciando Va bene Un casino cercava delle auto buone Non è meglio che le parli col capotano a sto punto? Eh sì ma l'ho sentito che sia Sta arrivando Io vado a consigliare va bene Sta arrivando Va bene Tu hai paura Vai pure a consigliare Non è questo Eh? Ma dove? Io non vedo niente Ce l'hai davanti Ce l'hai? Sicuro che so io Oh chi è che è? Accendi i lampeggianti Sì c'è te Ci sono sopra Qua dietro Io non vedo niente Qua Una banche Non la vedi? No Allora è un NPC Ah questo qua Eh È un NPC Sì che guidava così male Che cazzo era? Sì che ho pure tappolato questo Sì Ha l'acchiato davanti Ok Ho fatto la niente Lì c'è l'audi dei mexicani che tira Al garage centrale Sì Ma tu sei sopra l'elicottero? Sì Ecco Ma hai messi i canini Dobbiamo fermare in una notizia No sono in libertà vigilata Se ne ti tocchi È un Audi RS3 Sportback gialla Con le ruote da 5.000 dollari Certo Scusateci Niente Stiamo Tosse Sandra Dimmi Vieni un attimo Sono la concessionaria Dimmi perché Perché ti cercano Chi mi cerca? Un avvocato Un avvocato Perché? Perché la cerca? Ma chi è stronzetti? Perché Ma è stronzetti Che non pari coglioni Ah che ero E' tra di via dollaro Non li pago io Ricevuta va bene Non dirgli parola testuale che ha detto Io però devi non chiamarmi più perché io non pago 3.000 dollari che ha voluto waves Ciao Va bene Eh Winston sono in servizio Con chi va? E di Utenaca Perfetto Di Utenaca e James Foster insieme Adam 4 Ok Quindi è Adam 4 Ma siete in 3 voi? Sì siamo in 3 in pattuglia Perché non mi serve Condare il mio diafono Sì Comunque Mi sono vista come te Wow Solo che sono più elegante Ma va Guarda con la cravatta La camicia bianca In realtà quella sarebbe da tenente Però io non vorrei Comunque Io sono Wilson appunto Vedi le mie cravattine Con la giacca Più bella Comunque vieni Allora Guarda che abbiamo prenduto Madonna quanto rompono le palle Il radio Cosa prendiamo di bello? Abbiamo un budget di 70.000 dollari Le macchine per il detective Sicuramente Esatto Quindi prendiamo Diciamo Le macchine veloci Quattro posti Però ho pensato Magari anche Di fuoristrada Perché diciamo Servono Una qualche foglia Sì Vediamo quali sono Comunque vieni Allora Di fuoristrada Avevo visto bello Potrebbe essere Un attimo Che ti dico Subito che ho letto il nome Su internet Il mesa normale Un attimo Mesa Mesa 4x4 Comunque ci sta Comunque ci sta Come veicolo Comunque Mesa 4x4 No è troppo esageratamente grande E dove? No 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 Quello no Io vedevo qui Io c'era una berlina Ok ma vi stavano Di veicoli Pure fuoristrada Vabbè berlina V'ho vista di bello Coupé Ho visto una bella Coupé E la Matti Avevo scritto il nome Il Coscienti cabrio La Conoscienti cabrio Quella lì a 4 posti Mi se non sbaglio O due Vado a guardarla Sì per vederla Ma devono essere Tipo fuoristrada Fighe No devono essere Macchine veloci Per detective Però solo La civili Quelli che si vedono In giro E vabbè Qua Non ci sono Certo che ci sono Il Nissan Titan Sarebbe figo Perché Gli rava No no Ma auto Che non si riconoscono No E vabbè Qua Ciao Vado Tutto bene? Tutto bene Sì Che succede? Inter Sto comprando Delle macchine Per detective Però La conoscente E due posti E però Veroce Visto? Ma che è successo? Che cazzo In TAC Cose? TAC Stanno No Mi scelifi Forse Gino Voglio delle auto Sono in live Quindi Gino Voglio delle auto NNPC Che però siano Economiche Non costino troppo Ciao Badoglio Tu che macchine consigli? NNPC Quelli 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 Da Normali Eccomi Auto Che siano Bacanza Veloci Perché Vuole E Vuole fare Un botto Gli acquisti È giusto Vuole fare Degli acquisti Per detective Ovvero Vano in giro Con le auto NPC Così Per non essere Riconosciuti Però Le live Però Tanto Non li Conosceranno Mai Vieni qua Tanto Vieni Voglio prendere È in garage È in zona concessionaria Sono Dicevo La cosa Io lavoro Per la GT Era Anissa Skyline Ah Anissa Skyline Non ho tanta gente Che c'è qui Non Poi Vogliamo prendere Delle macchine Quante sono Le macchine Così Cerco Di aiutare Le nostre Però adesso Due Ok Due Sì Sì Due detective Però magari Se vogliamo Prenderne Un'altra In più Due In più Che potrebbero Servire Per te Le macchine Civili Sono Sì Quattro posti Veloci Allora Fammi Pensare Vabbè Ma io le rubo Le macchine Faccio Prima Non posso Ho una BMW Che se ne vendono Tante No Civili Civili C'è Otto Civili Quelli che vedi In giro Muoversi Esatto Valle Come auto Civile Non c'è In line mi dicono La sua multana Che diciamo Sai che io non lo so Aspetta che ci sto pensando Mettomo Fammi un attimo Io sto guardando sulla wiki di gta No se non mi dispone Però non Non tutti Tipo sta qui Eccola Si chiama exemplar Come si chiama su Porca miseria Non c'è Non esiste Del catalogo Exemplar Il coupé Fai col baller Fidati Col baller Sì Baller Caval Quelli sono sub Quattro posti Che cerchi qualcosa Un po' Che E' una ma Qualcosa di macchina Per i detective Sai I macchine Berline Le coupé Così Ecco Perché io Voglio mettere I detective Voglio Voglio provare A farli girare Con le auto Senza sirene Le impiaggianti Se non vengono Lì come se Allora Come macchine Potete prendere Azzario Ho ben preso Una macchina No Resta Una media di no Ma sai la macchina Di Totò Il caro funebre Di Totò Quello lì ho preso Vado in servizio Va bene Eh veloce Oh madonna È spaventa Allora Beh Potremmo essere La Banshee Potrebbe andare bene Dove sta la Banshee Sport La seconda Il cchia Però è È un budget Budget Non è molto alto Eh ditemi Un prezzo Abbiamo 25-30 mila Esatto La macchina Quattro posti Ce sono La Nissan Ti viene 104 Sì 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 A me Sì Poi Finiamo Sto storia Capitano Sì Ci hanno rubato La pattuglia Ma come ci hanno rubato La pattuglia Che vuol dire Sì lo giuro Non c'è più No no Seriamente Non sto scherzando Ma che caro La kuruma Com'è la macchina La kuruma È la La kuruma È la macchina Di quelle Che girano Niente capitano Siamo a piedi E niente Scoppiato L'helicotter Bello La kuruma Boom Cornelius La kuruma È bella La kuruma Guardala È in Un attimo In In sportive La Quattordicesima No no Sport Kuruma Quattordicesima Provala Bellissima Ok aspetta Un attimo È 20 secondi Un attimo C'è il visore Che è sovriscaldato Comunque la kuruma La prendo sicuramente Antonia Che succede? Lo Diciamo Fai quella Mancia Mancia Che sai fare tu Cioè Me lo Ho resusciti Me lo ricordi? Eh Strano Eddie Eddie Ci penso No Ti Vai Mera Inventaci 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 Come hai detto Prima il no Eddie Cornelius Allora Ma lui come si chiama? Si L'alettone Aiuterebbe Però Si può togliere L'alettone Secondo te Eh Penso di si Guardi a chi chiede La radio La toglio? Si Adakuruma L'alettone Si può togliere? Pari Non lo so Tu non lo sai? No Non lo so Perché? Perché è una bella macchina Però Io mi sono accartocciato Per i fatti miei Te lo so Proprio dire Perché nasce Di spawn Con l'alettone Non vorrei che poi Non si potesse Più togliere Vabbè Un attimo Un attimo Ve lo sposto Un attimo Da mia istanza No Ti ho sposto Un attimo Comunque La cruma Non lo so Si può togliere L'alettone Però C'è Se no Di sportive Vedo qui La La sultan Normale Quanto costa? 30.000 Vedo un attimo No Rispondo La sultan 30.000 Sì 30.000 La sultan Sport Sportiva Non è male Come macchina Quattro E anche Molto veloce E non lo so Bisogna chiedere A qualcuno Che c'è Al mello Che sa Non lo so Io ho chiesto Vadole Non lo so Scusate un attimo Mi ha fratello Fratello Ma la cruma Non spawna In giro Mi dicono In live Neanche Neanche la Capitano Sono Detective Pasquale Soprano C'è La La Segretaria Della 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 Cina Che fa Le Sì Facciamo una cosa Che secondo me La cosa è migliore Vediamo Lo vedo anche Il catalogo Insieme a voi Mamma mia Mi sta impazzendo Io Allora Vediamo Volete macchine Ma avete provato La Mi sembra Che era La Panto Ma no Ma noi parliamo A macchine veloci Non utilitarie Scusate Ho capito Ma la Sulta Non spawna In giro No Le elegi Non vanno bene Allora macchine Doposti Chi se ne frega Non devono arrestare Detective Chiamano una battuglia Andiamo su Sport Allora sta Conoscenti cabrio Punto La conoscenti cabrio È bella E anche la FS120 La Kuruma La Kuruma è bella Eh ma Probabilmente c'ha La lettone Non va bene No Ok Io lo scelto Ma ci serve La conoscenti cabrio Potete ottenere Prima E la FS120 La FS120 Era quella Che compravamo Lo scorso Wipe Alle segretarie Delle di appartamento 20.000 No ma No Ma hanno bisogno Di quelle che girano Quelle che girano La sola In giro Quelle civili Che non comunicano Quelle auto Lì Bisogna Eh sì Ho capito E' un piccolo problema E' un piccolo problema Dov'è? Eh su quella Che tu ria Eh ma 60.000 dollari Non c'è L'ultimo E' tre Potono essere anche diverse Tra l'uno Volevo riprendere Tutte diverse Tra l'uno Esatto Questa è bella Ho visto Guarda La Sentinel Sport E dov'è? In coupé Lat 5 Oppure la Sentinel XS Vai a vedere Dove Possiamo andare a vedere Eh vendetela Questa qua Vediamo un poco Anche la Sentinel XS Vediamo Potessi Demi la E' un attimo Che la 35 secondi Sì Ok Segnetela Allora Sentinel Porto E prendiamo Un SUV Un baller Io spero Se sentire l'XS Quanto è? Dove sei? Sei secondi Devi vendere un SUV Eh cosa? Baller? Sì 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 C'è tanto C'è di soprano Che vende da qui Che è di paletto E' uguale La Sentinel XS Forse è un po' Più agile No Cambia niente Sultane Sultane E la Sentinel No Questa è L'ultima L'ultima che hai provato Lo Sentinel XS La Sentinel La Sentinel XS Costa di meno E' dipendente uguale Ah beh L'XS Quella lì la prendiamo Sentinel XS In coupé La sesta Vedo la Vedo la Zion Guarda la Zion Cornelius La Zion Vedi com'è? Dove? Dove sta? In sempre in coupé Ehm Sì Vado? Zion Sì Provate Provate Come? Sì 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 La Zion va bene 20.000 Anche la Zion Allora vai Segnatela Adesso guardo Un SUV Che Volevo prendere un SUV Ah volete prendere un SUV? Sì Salve signore Benvenute al concessionario soprano Ok un SUV Prendete un SUV Qua c'è bisogno ovviamente Di head Sì Un attimo Prendete con calma Dove registro la macchina del signore Finchè scegliete Allora Sì Ecco Aspetta un po' più in cover Che siamo Sì Capitano Ci chiamate quando avete finito Che la possiamo aprire Sì 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 Allora le macchine Che devi prendere sicuramente Stasera sono La Zion La Sentin XS La Skyline GTR Per me però Vabbè E poi Stiamo provando un ottimo SUV Vedi guarda questa foto Guarda questo qui Guarda la foto Un po' bruttino esteticamente Però spawna in giro se non sbaglio Sì dovrebbe spawna Sì la missa è mia Allora senti Nel frattempo te li indesto così Ce leviamo il pensiero Eh sì Dove andare a tenere i soldi però Vabbè tu non ti preoccupare Intanto ti do questo Eh poi Spawna Scusa Li esci tutti i tuoi soldi No Quella zia non la pago Cioè no La mia la pago io Quelli sono soldi al dipartimento Ok No vabbè ma Me li dai tutti Tu direttamente Sì sì Dove te la Ma senti Te la do io Direttamente io Ti ricordi quanto veniva Ok per questo Allora un attimo solo Che faccio tutto Sì Vedo un attimo quello dopo Si chiama Rokoto Vediamo un po' 37.000 Vediamo un po' C'è una mia c'è una gialla La scheline Ci sta 6 secondi 5 4 3 2 1 Questo ci sta Guarda che bello Questa sua qui Guarda la foto Eh sto guardando la foto Eh questo è più carino Vediamo questo 37.000 dollari costa Sì eh speriamo questo Guarda Quindi pagheremo 20.000 Più 20.000 Più 37 Esatto Ah beh Cazzo Per altre macchine Ok l'auto che ho preso si chiama Un attimo Ah grazie Poi c'era un SUV anche da prendere Ho capito bene Sì il Rokoto Rokoto Come Madonna Il tervicesimo Una malattia Come la sudoku Rokoto Rokoto All'orecchio però Rokoto Sono curioso di vedere Ma se non entri nel simulatore per favore Io lo volevo vedere No rimanga fuori Ma se non sai evitare Accolta mica lì Allora Capitano la tua è registrata La prossima è che la registriamo Ah tutta me tutta me Poi le posso io Tutta me Va bene Ok E la zionna quanto costava? Così fa 20 mila Sempre 20 20 20 e 37 Esatto 20 20 e 37 Il SUV che prendiamo adesso Madonna Il SUV si costano sempre di più Vabbè Buonasera Buonasera Pintano Sergente Buonasera Signor Soprano Credo Salve Un attimo solo Il concessionario è chiuso Salve Salve E Rocoto com'è? Rocoto mi sembra un po' Una chiave Una? Se lei deve fare una derappata e partire veloce Non parte Resta lì Eh ma Eh consigliamene un altro Eh su guarda un attimo Perché Sempre che siano di quelle che girano In una città Mamma mia E Allora Perché So schifo No ma Rocoto è più bello Il baller Il baller Non l'ho mai visto a giro Comunque Ragazzi Live Perché siete live Spawna il baller In giro Allora io ti faccio il calcolo De quelli di downtown Sì 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 Va città Sì Ma il simulatore è lento Mamma mia No Anche questo non va bene Il baller com'è il baller Il baller è anche quello lì lento L'ho provato adesso Vabbè ma Sono 148 e 500 Lento in partenza Proprio in accelerazione Sì 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 Eh ma non c'è nessuno Di veloci L'fq2 cos'è l'fq2 Eh anche voi volate macchine da città giusto Noi vediamo Musuv diciamo da città Comune Quindi 528 E 500 Nessuna alfa Nessuna importata Ecco Cadetto Vincent Intervinceve Cadetto Vincent Qui ad Ad 5 Detecti Vedi di riparti Parcello di scelissi Grazie Eh Va bene arrivo Ad 5 10 4 Opla Acchierate le ordine No L'hai già fatta Il capitano Arriva il bonifico Io ho Prenuto tutto E ce ne andiamo Ok Ok sono arrivato Belle Ok Arrivo subito Allora Ve le prendo Ok Antony Dovrebbero esserti arrivati Sì sì Sto andando a prendere L'XLS No l'XLS è Ingridabile Mi dicevano Allora la sentine L'XL è presa E poi cosa tantino Quanto era? Non ho Ah Allora L'azione è presa Perciò Io da 5 Io da 5 sono a te Sono a paleto Arrivo Ho depositato 40 sostate Adesso ho la cassa a rumore Da bere? Eh da bere non ce l'ho Allora non serve niente Vabbè lo veste intanto Sì niente L'XLS è Non è maluccio Spura questa Quale vuoi? L'XLS L'XLS Si vede in giro In giro Allora la macchina Che dici? Aspetta Allora Vedi qua Jonathan Non capisco niente Dimmi quale L'XLS è spawn ragazzi In live Ti prendi i soldi Prendila Ok Mandameli al 3427 L'XLS Si vede in città In giro Sì sì Eh non so qual è Dove è stato Sub Prova lo suv È bello carino Però questo è 42 Andiamo Eh come andiamo No un attimo Un attimo Che prova l'ultima macchina Lui decidiamo il sub Stiamo prendendo le macchine Anche con la signora Wills Un attimo Ah ok perdonate Eh per quello Anche la macchina Perfetto Lo prendiamo 42 Vabbè vada per l'XLS Allora aspetti Eh Ehm A chi vuole testarlo oltretutto Vabbè fa lo stesso A capitano Quindi ti occupi tu di intestarla Se ti dico il modello Dato che hai già tutte le carte Vabbè fa lo stesso Eh che A chi le ha intestate Puoi farlo anche a me Tanto dopo vanno A un altro Ok allora Aspetta che vediamo Quanto costava Vabbè no È capitano 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 La paga capitano Beh XLS Quindi era A me sembrava buono Anche di partenza Quindi Sì sì infatti Quindi 42 46.000 46.000 tondi Già presa Perfetto Perfetto Vado a prenderli Mi devi andare a posizione Mi manda al 3427 3427 46.000 Infatti poi alla fine Parlando così Alla fine ha capito E se ne è andato Senza dire niente Vengo qui Jackson Ronnie Va bene va bene va bene Sei da solo in battuglia Allora se riesci vai con Convinis il confuso Rover No niente da quando Via radio Ah ok Convinis entrai sì Goccaretto Ma posso richiedere Cambio cognome Ma che ne mi metto Anche come soprano Eh no Non si accettano più Ero Tony Pieno il posto Si deve sposare un soprano Esatto Ora si fa così Ero libero Ero libero No ma io so Ok Basta Rimanniamo Signori tutti in macchina Dottori con l'auto dei dottori Eh ma io scusate Io dovrei Di una malapodente Urgentemente Allora io devo posare la macchina Va bene E ma ne siamo in due Non ci stiamo tutti qui Ok Vabbè vado con la pattuglia Ma non c'è ancora Ci vediamo Ci senti va bene Ecco qua Qua la pattuglia Grazie Andiamo E ma ne siamo in due Non Massimo ci sta qua No Massimo ci viene con la sua Eh apposto Tutti con la propria macchina Daniel tu tieni d'occhio Le barricate Capita vieni con me No sto con loro Tranquillo Grazie Averci Portati Jonathan Massimo ci E non va la macchina Massimo ci Portati a Jonathan Vabbè andiamo con quella del congessere Oh Cornelius 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 Vieni 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 Fermi 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 Corri corri sali in macchina Sali in macchina Sì 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 Sali sparatoria Sparatoria Ma dove? Paletto Mettetemi punto Mettetemi punto che non so Posizione Posizione Per quello Mi posso E cosa E cosa Era un lotto Ancora Ancora Era un lotto Era un lotto Era un locale Potenti Sono senza parole Io Sono senza parole Aspetta che mi parcheggio meglio Ecco ci siamo Qua 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 ci siamo Perfetto niente non ne passo allarme Ah ok ma non male Niente ne passo allarme Saliamo Sali in macchina Non sia un genio Qualcuno Vabbè Scusa Il collega deve rinnovare le patente E vabbè Una lavora È chiuso È chiuso Oddio Guidi la guidi guidi Non riesco a guidare Io Vedi guidi Se la fa mettere in moto La macchina Vedano attimo Deve rinnovare Ok aspettiamo Oh madonna Volevo vedere anche questa macchina Provare adesso Che potenza Capisce perché faccio i 120 Vuole provare Che potenza Sta macchina Quanto costa sta macchina 220 Vende mila Poco Eh sì Io l'ho regalata a Tommy Tommy l'ha regalata a mio nipote E io me la tengo E lui se l'è tenuto L'ho fatta adorata Ma mi hanno insultato Ho dovuto rifare la nera Meglio nera Eh Allora 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 Ciao Ci vediamo domani Domani te lo faccio Non ti preoccupare Ah hanno avvisato Che quell'auto gialla Nella juola mia Non è da sequestrare Sì sì Non è da sequestrare È tutto un problema L'impennamento Anche questa è una bella auto borghese Per fare Vada vada su Vabbè questa è Spinga 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 È assento al centrale Perché lui è al centrale È andato a prendere Massimuccio al centrale Perché spero che in due facciano Facciano una testa Puoi chiamare Jonathan Sì ora ci chiamo Grazie Sai che bello se ci fanno la polizia adesso Lì c'è Massimuccio con te Siamo l'anno nel limite A prescindere Sì che c'è Massimuccio Sparmenbetto Come sei n'è andato Aspetta che lo vado a Aspetta che gli chiamo Mamma mia Arrivo subito Minchia Tu dici questa macchina è bella Non fare venire più in centrale Cioè li fai venire direttamente a Sandy Perché non è che possiamo fare avanti e indietro Tutto Yonno Tu dici che veramente È più comoda questa macchina qui Sarebbe bella come in borghese Ma ti riconoscono subito Ma quello sì era ovvio Era una battuta Anche perché Però Sei velocissimo Non lo sei velocissimo Però il dubsta è più bello Andiamo di troffi track Così saliamo sulle altre auto Ciao Il dubsta Tira Ma anche questo Mi hanno detto che senza limitatore Riesce a toccare i 300 Quanti? 300 Eh la mia pattuglia Tu hai 300 Ecco Siamo lì Tutte le pattuglie Arrivano a massimo a 300 E alcune superano Perché ci sono macchine Quante città Che fanno tanto di più Per quello Superveloce Che arriva Molto 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 veloce L'avevo vista ieri Ma come ti avevo detto Di prendere mio fratello Al garage centrale Mamma mia In due Non riescono a fare un cervello Vabbè Ah vabbè Questo qui? A dopo Questo E forse è massimuccio Ok Vabbè tanto Lo devi prendere tu Ora io lo dico Jonathan Eh devo depositare l'auto Che da un attimo L'auto Allora Ora le consegno L'auto Non riesco a guidarmi Non è riuscito a mettere sopra il parcheggio Che problema Ti sta venendo a prendere troppo quelli Va bene Va in ospedale però Va bene Non è inutile che resti lì Sì sì Tony An dopo Tranquillo Posso Vediamo se riesco a metterla via Eh sì No No Andiamo se riesco Troppo di più Eh sì perché non riescono anche a metterla in moto Io mannaggia Spesso Eh Ma come? Eh non riesco Ah Vabbè No mi sa che proprio bisogna metterla dietro l'angolo Qua dietro Muret Nascondila Occhio Ma Non la vedo più Non mi ammazzeremmo Sono qui Eh io non vedo più la macchina No dovete lavarsi la macchina così No la riesci a mettere qua dietro Sì sì Non ti preoccupare ci penso io Ma Allora Nella salla di riunioni Con il signor Attilio Oh XLS Sì sì XLS È quello che ne stiamo Non è una Bello È una lape dottoni quindi Stop 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 Eh sì stop stop Cerca di chiudere La finestrella che mi è venuta davanti Allora Allora Non ci sto a lei qui No no a lui a lui Scusa a lui Allora Ti rigiù le maniche Non l'abbiamo rapinata ancora Allora Ancora? Ancora non mi piace Nessun veicolo Sono quei momenti che odio Il lavoro al concessionario Aspetti un attimo che risalgo Ok vado un attimo da Ok Testami questo Se lo sposisci a fiscale è 21 Giusto? Ok La prima Andata La deposito qui eh Sì 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 Quando sei pronto vado Vai vai Aspettiamo Sì Comparire tra un breve secondi Sì Mi sa proprio di no Te vado a sentire Laggiù invece Hai risolto? Eccola Oh no Non c'è proprio Oh questa è la mia Ah Questa è la tua Eh facciamola per ultima questa qui in realtà Se è possibile Vabbè che cambia Ah vai Non ti preoccupare Ok Poi c'è la zion Oh te l'ho data già la zion Vai mettala nel garage Nel garage Sì la metto nel garage Scusi Ah ecco perché non ti stavo dando la stessa macchina di prima Ecco Eh sì Eh no E' questa Ottimo Ok Tutte adate Per fai notare l'XLS Sì E' l'XLS che sta facendo Ok Non ha problemi lui Con Eddie Non con me Ah no Sto non aspettando Sì Sta arrivando eh Sì sì Ma torna Sto non Non frena Vabbè Mi tolgo lo sfizio di provare sta macchina Mi tolgo lo sfizio di provare sta Mercedes Ma è chiuso? Entori Entori Sì perdonami Ok pensavo non mi sentisse Dimmi No pensavo non mi sentisse più nessuno Quindi perché volevo parlare con qualcuno Chi sono? Eh che non so Ah mi conosco Salve signori Dio storm Storm Chiacchiamato completamente stile di vestirsi Eh va bene Vuole entrare in polizia Oh eccolo Eccolo ce l'ha fatta Eh niente sono bianco No io lo vedo l'evo Sì sei a posto Per me sei a posto Allora cominciamo Riproviamo con l'XLS Yes Ma l'XLS non era quello per dimagrire Capitano Capitano 21 Corgi piscale Ciao ragazzi Eh aspetta aspetta Cornelius Però dobbiamo fareci 40 milioni di viaggi Poi per venire a prendere qui No Eh sì No perché tanto è inutile Lo prendi A chi le devi dare Lo porti qui Eh ok Va bene Ve la diamo oggi Spegna la radio Perché Questa qua C'è Veramente Ma non ho mai vista nessuno in giro Eh Vabbè ma Io adesso Infringerò un po' di regole Te lo dico Eh vabbè io volevo fare Con quel Mercedes lì Però Era chiuso Purtroppo Infringerò un po' di regole Perché senti che il motore Body cam Live Eh mi dispiace Chi se ne farei Mi dispiace ma Ragazzi Chi se ne Cioè Io vedevo un camion Vabbè 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 Fai lo stesso Ho visto un camion Davanti a noi Oh non c'è nessun camion Vabbè Fai lo stesso Eh eh Quella è betta di Di soprano Che chiamava i rinforzi Pensavo fosse una sparatoria E che inversione Farai Super lì Sceriffi Eccoli là Super lì Eccoli Eccoli E' piano Accosti E spenga il veicolo A costi E spenga il veicolo No no A posto A vedereci Si tutto bene Ok ok A vedereci Arrivederci Benzina Che c'ho al 10% Sì 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 Tanto la facciamo gratis Sì sì Tanto la facciamo gratis E purtroppo Ah per sempre Quando non c'è bisogno Ah mi devi dare 44 più 46 Ehm Perché? Eh perché ho pagato io No 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 Ce l'avevi tutti tu i soldi Sì sì Ce l'avevi tu No 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 che stai dicendo No te l'ho passati Te l'ho passati Te l'ho passati Sì sì Te l'ho passati Insieme ai 30.000 Sì ma sali in macchina Cazzo C'è adesso il cellulare Il conto Ok sia giusto Vai vedi Vai sali in macchina Ma oggi si danno gli stipendi Ma è oggi Era già lunedì Ah Ora si parla Vai lunedì Ah che cazzo Capito Comunque Le nuove divise sono un po' brutte Ma lunedì salti una settimana Scusa così No no non hai saltato nulla Avevo fatto venerdì E poi Trax E passa subito venerdì Lunedì Ah Figurati Però le divise nuove Fanno un po' Un po' bruttine Alcune Alcune sono un po' brutte Poi vabbè Io non faccio conto Perché io non Sono donna Tutte diverse Delle mie Sono tutte diverse O brutte O non mi stanno bene Scusa 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 Oh Perkins Dove sei? Eeeh Dove siete? Ma come imbarca a Predo Bay? No no Vengo io da voi a Predo Bay Ok Volevo cazzo Volevo consegnare le chiave a Soprano Che tra poco va via E niente Arrivo dai Mando nella posizione Poi nel mentre scendiamo giù Vai a Predo Mi lasci le chiavi No no Eh si Ti sto lasciando Le chiavi di? Di una ma di quelle lì Che la passa sopra a non una E non te la posso Ce l'ho là giù Ce l'ho E infatti Mentre vai a Predo Ti fermi Mi ci fermo un attimo lì Mi passa la chiave di una E poi le la do a Soprano Intorno stasera Ma quale gli dobbiamo dare Soprano? Gli do Chi diamo? Ferrisce il SUV? No no Vediamo Ok Ti lascio qui in centrale Ehm Sì come vado io? No ma Dobbiamo passare a Sandy Tanto Ah già è vero Ma vai tira Tira Chi se ne frega No no Non posso rispondere Non può rispondere Ah che già è vero che Vabbè Lo chiedo dopo Soprano una domanda solo E basta Scrivimelo Ok Mi scrivo Che va chiesto di scrivergli Ok Le sparano in petto Ok Soprano in petto No mi Grazie a tutti. 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 No, no, sono io. No, no. No, ma che casino. No, no, no. Ehi, mi scusi? Sì? Sono un agente di polizia e ciò che ha fatto è legalissimo. Tu mi stava per uccidere. Adirittura. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a Grazie a tutti. 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 Sul tetto. Sul tetto. Grazie a tutti. E' già arrivato? Ma non so dove sia lui. Eh, allora chiamalo qualcuno del governo. Bene. Se... Eh, passamelo. Comunque sarà un problema adesso... C'è perché dove cazzo vado ad infilare mo? Eh, no. Lo devi tirare fuori nuovo e lo metti a parte. Eh, qua al garage centrale non lo posso mettere. Eh... Ok, va bene, comunque mi raccomando, se vuoi puoi usarla anche in giro, ecco, diciamo che tanto vediamo un po' come gestire queste auto. Però non le hai fatto modificare, no? Eh, no. Ok, perché poi dobbiamo fare modificare. Ok, perché poi dobbiamo far provare a togliere la taglia, se si riesce. Sono... Beh, sono tre veicoli in totale per voi detective. Ah, ah. Sono... Cioè, ha... Cirete? Due... Due coupé e Nix-LS, questo qua. Eh, chi ce li ha adesso? Gli altri? Eh, una coupé ce l'ho io. Ok. E l'altra ce l'ha Cornelius. Però l'altra coupé l'ha da... L'ha da Olivera. Ok. E poi ci sarà la detective. Ma la coupé... Ce l'hai qua la coupé? No, è sempre Sandy. Ok, vabbè, poi me la fai vedere. Anzi, ah, se riesci, fammi una foto, perché volevo vedere. Non ho capito. Non ho capito. Non sto già parlando ad altre persone. Eh, no, perché c'è il processo, quindi dovevo andare giù. Mmm, va bene. C'era solo? Sì. Dove? Ma perché c'è una superveloce vicino alla... Dove sei da solo? Ah, anche una scelta. Cioè, lo sei avuto lì. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Ma che cosa è questa pattuglia rotta? Eh, io che ne so. Eh, ce n'è una... Ma come stala, eh? C'è un'altra... Ma capito, è nostra, non è mia. Che vuole? La faccio a scostare. C'è anche una superveloce dentro qua. Vabbè, ma finché è dentro non la disturba nessuno. No, non è dentro. È dentro al garage qui. Ah, dentro... Lo faccio vedere. Ed ha anche le sirene accese. Stranissimo. L'abbè gente o le sirene? Sirene, non li sento. Ecco. Sì, non parli. No, sono le rampeggianti. Boh, io sento anche... Non parli. Non è stato un problema. A posto. Andiamo. Andiamo insieme? Sì, sì. Perfetto. Mi sento un attimo mentalmente, eh. Adesso vedo. Sì. 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 Grazie. 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 Ok, rieccomi. Ok, rieccomi qui. Rieccomi. Lei ha i droni? Sì. Ma ora si può anche entrare da qua, vero? Eh sì. Oh, Salamanca, salve. Tutto bene? Mi sono messo un po' di profumo ora. Eh, si sente anche da chi è? Si sente attraverso il vetro della macchina. Addirittura. Sei messo il profumo? Sì. Chanel numero 5. Eh beh, Salamanca, la Salamanca mi piace davvero tanto il mio profumo. Eh, è chiaro che mi gusta il profumo, mi gusta anche un'altra cosa, però... Mmm, quella la vedo un po' lontana, però. Mmm, io la vedo in mia vicina, invece, in questo momento. No, ma venga qua dietro, che parcheggia la macchina. Eh, vado dai, parcheggia la macchina. Eh, parlare qua nel Vigoro non mi piace. Eh, parlare, sì, sì, infatti, è un po' troppo. Parcheggia, parcheggia. Parcheggia qua davanti. Sì. Eh, scenda pure. Sì, pare che avrò un po' parlare con loro. Ah, adesso lascia parcheggiare la collega. Ah, è vero. Ma chi hai fatto la... Ah, ora sì, che so sentito. È vero, è vero. Eh, ora sì. Ma quando è che hanno fatto questa costruzione? Eh, un paio di giorni fa. L'ho già vista, però chi... C'è... Guarda, chi? A lui, no? Eh, dove dare, avevano ristrutturato il governo. Allora hanno mandato gli appalti, hanno presso gli appalti. Mmh. Sì. A me sa che è stata una ditta unica perché ha fatto qua il vanilla, il tequila. Anche il tequila? Sì, anche l'ospedale hanno ristrutturato. Ma il tequila cosa hanno? Ah, hanno messo i cessi a tequila? Veramente. Se esco vivo da questo processo che è stata domenica, la porto fuori a sera. No, guardi. Eh, non mi esco a niente. Sono... Miglior locale di tutta la città. Sono a vedova. Ecco. Mi dispiace. Eh, appunto. Sono fedele ancora a mio ex. Eh, ma se sta a vedova. Mi dispiace, ma sono fedele ancora a mio ex. E poi al tempo, col tempo passa a trovo. Tempo al tempo. Lui lassù, claro. Lui lassù, vede e provvede. Sì, cioè, secondo lei, qui lassù non la vuole vedere felice. Ovvio, però, ecco, un attimo. Facciamo passare ancora un po', ecco, non vorrei dimenticarlo. Lui lassù è passato, se posso. Un po' di mesi. Ah, capisco, capisco. Non è facile. Eh, no. Cina, intrattenigli un po', voglio vedere un po' di spettacolini, cazzo. Ecco, c'ho devo fare, non sto niente. Oh, non c'è più l'uccello, quelle. È un altro piccolo, Emily. Sì, vieni, lascate un attimo. Dimmi. Allora, allora, cosa ha fatto? Va bene. Eh, diciamo che la Yeti Tanaka me l'ha malettato per sbaglio, no? Va bene. Non è un problema quello, no. Mi ha preso maletario, l'improvviso James mi ha preso de forza e mi ha portato nel privé. Qu'è? È James, là, come si chiama, là, la gente James Foster, lì. Ah. Eh? Eh, mi voleva costringere a usufruire di uno dei servizi del privé. Sul suo corpo? No, no, no. Un servizio in generale. Ah, cioè... Sì, 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 voleva fare una forza. Voleva fare una forza. Sì, sì, eccolo qui, guarda che viene a scoprire. Scusi, ma... Cosa ha fatto lei? Io. Io. Allora, eh... Cosa ha fatto lei? Aspetta, faccia parlare. Io per sbaglio ha manettato il signore, no? E io lo stavo cercando nel privé, solo perché non lo trovavo. Sì, mi ha preso de forza e mi ha portato nel privé, sì. Perché io vado ne voglia nel privé, sì. Ma io tu hai visto che io l'ho preso di forza e l'ho portato nel privé? Veramente mi ha manettato pure a me. Eh, ma lei ha visto che io l'ho portato nel privé di forza? Eh, non l'ho visto perché... Eh, perché non è? No, non l'ha visto perché non l'ho fatto. Diversa una cosa. Ah, sì, sì, vai via, dai. Ma va ben cosa? Poi volevo costruire a soffrire di un servizio del privé. Ma quando vai? L'ultimo alla dereccia che era quello dell'ombre, no? Che è l'ombre che vai là, no? L'unico ombre che vai nel privé. E voleva farmi una foto, sicuramente. Vabbè, comunque... Prima che accampitasse che per spazio vado. Volevo il suo numero di telefono. Sì. Eh, 258. 258. Sì. Ma faccio la traduzione per io. Magari io non capisco. Sì, 258. 4935. 4935. Avvocato? Grazie. Sì. Poi venga, mi seguo qui avanti. Di mattina e di sera, cazzo. Ma che sta dicendo web e figo, non è chi come se suona? Qua c'è gli strumenti... Vabbè, arrivederci, Tiago. Spero che... Vabbè, la divisa delle ufficiali. Venga qui qua. Qua c'è la pelle, più schifo. Ah, che c'è. Eh, ma... Cioè, veramente l'ha fatto? Eh, no, eh, io mi metto la contata a canzoni. Quindi se io richiedo la volle, chiamo alti alla gente? Controlla la macchina. Eh, se vede che mi porta... Il primo è mi dice usufruisci del... Del servizio, ok? Che sta una bella donna che baila. No, non c'è appena portato una ruota. Non so, non sa che sta... Non c'è che baila. Ok, ma richiedo la volle, che vuoi andare a fondo? Un attimo che mi chiedo chiama la radio. Sì, ti sento. Hanno portato una ruota. A chi? A nostra. Vabbè. Che... Eh, non l'ho visto. Che vuoi che ti dica? Neanche io l'ho visto. Vabbè, comunque... Sì. Vuoi andare a fondo? Vuoi andare a capire cosa ha fatto? Io ti adiccio quello che ha fatto. Vuole sporgere un reclamo dal dipartimento... Cioè... Sì. Ok. Allora, indagherò per capire cosa ha fatto la gente. Però sappi che se la gente non ha fatto nulla, poi dopo... la gente potrà... la gente potrà... denunciarla per calunnia. Lo sa vero. Va bene. A posto. Aspetta che mi ha malattato per sbaglio, il signor... Vabbè, mi ha malattato la capa per sbaglio può capitare anche quando tiri fuori il cellulare, magari... Sì, sì, no, infatti, ce l'ho cercando di smalettare, ma nel frattempo il signor James è arrivato, ma poi ho sempre preso da forza e mi ha portato in piedi. Un piccione, Ruth, venga, venga. Venga pure, che mi sembra più responsabile. Cosa? Ryu, Ryu, vai vedere la ruota. È porata. E chi è stato? E che cazzo ne ho trovato a porata? È la nostra macchina? Con la vostra macchina non l'ho vista, la mia sì. Controlla, controlla. C'è un po' di domande, vedi, che so. Allora, senti Randy. Ok. Fai senti la storia, ti racconta. Mi dico, mi dico. Allora, niente, la storia è questa. Stavo parlando con la gente Tanaka, che devo dare il numero, no? Ok. E vabbè, per sbaglio mi ha malattato, va bene? Non è solo il problema, ma esse. Cioè, non è questo il problema. Cosa è successo? Nel frattempo che mi stavo cercando di smalettare, no? Arriva la gente Foster, James Foster, che mi ha prende da forza e mi porta nel privé. E voleva obbligarmi a usufruire il servizio del privé, quello in fondo alla derecia. Donde sta l'ombre che baila, no? L'unico ombre del privé che baila. Beh, è già violazione dei diritti dell'uomo, ok? Continui. E nada, praticamente, cioè, voleva obbligarmi a usufruire il servizio del privé. Se non sapessi che lui voleva essere una foto e inviarla alla mia ragazza. Dai con chi sta? La classe, la signorita, capisce? Già, è la gente... Ah, sta evidenzati? Sì, sì. Mmm, bello. Il Foster già ci ha provato male fare volte con lei. Quindi... Bella ragazza. Allora ha scoperto chi è. E non posso fare domande perché non ho visto nessuno, capisci? Complimenti, bella scelta. Grazie, sì. Ok, allora può controllare anche la nostra. No, la vostra sta bene. Ottimo, bevi che... Eh, può stare lì a controllare se la buca, no? Se andando a qua si vede? E diciamo che, vabbè, hai cercato di mettere un po' di scuse. No, ci può perire, non tengo il dinero. E dice, eh, non ti preoccupa, te lo do, io ho il dinero. Ah, quindi era proprio forzato, proprio. Vabbè, allora analizzeremo le bodicam. Ma a chi è stata una signorita molto carina, mi diceva... Allora, analizzeremo le bodicam del collega. Tanto ha l'obbligo di doverle registrare tutto, quindi in teoria potrebbe averci... Ma se non la tiene, come... Sì. Se non la tiene, lei, se non l'avvocato, può presentare denuncia di tre del giudice, ecco. Rovinerebbe un'agente di polizia, la carriera, la vita, molto probabilmente anche, però, ecco, se vuole farlo per una roba del genere, lei è libero. Sì, assolutamente può farlo. Se lei si sente minacciato in qualche modo, o non rispettato, o violato dalle... Dalle leggi, normalmente può sporgere denuncia per queste cose, certo. Ah, bien, sì, sì, perfetto, allora. Se vuole venire in centrale, appena può. E... adesso? No, no, quando lei ha tempo, non è un problema. Mmm, sì. Come vuole. Se vuole anche adesso, non è un problema, ci vediamo in centrale, polizia... Eh, se è possibile, sì, grazie. Ok. Bene, allora andiamo, Sergio. O vado solo io, che dici? Un attimo. Ehm, vado a prendere la macchina. Sì. Scusate, stavo scrivendo un messaggio. Ascoltate, mi sentite espirare come non mai, perché c'è sto microfono, che devo... Mamma mia. Bene, se andiamo... vuole venire con noi? Eh, no, devo... devo mi cuocere, no. Allora, noi andiamo... andiamo in centrale, intanto. Andiamo in centrale, adesso. Salve. Salve. Shanti. È il tuo compleanno oggi? Sì. Auguri. Senti. Grazie. Senti, Shanti. Abbracciami tu, come tu sai fare. Non ci credo, 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 funziona. Senti. Complimenti, Shanti, auguri. Grazie. Sì? Sì, sono arrivati un sacco di tartarute. Voglio vederle. Vabbè, noi andiamo, qua ti devo fare una denuncia a prendere. Ciao, ragazzi, buon lavoro. Senti, auguri, Shanti, stavi bene anche tu. Buon compleanno. Grazie. E dovete averlo... Dov'è che sarà manca? Dov'è Gustavo? Vabbè. Devo salutarlo. Stavamo dentro. Mannaggia, ok, vorrà sentire il profumo ancora. Tanto quello... Molto benedetto se ne va a quel paese. Di domenica. Ah, ok. Eh, speriamo un bene per il processo. Tanto dovrebbero essere tanti testimoni. Non c'è. Più di dieci, ho sentito. Sta mangiando una mela. Eh, lo noto. Si tiene a dieta. Eh, certo. È un, diciamo, un dessert, si può dire. È una merenda serale. A quest'ora. Molto... 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 Ma leggero. Esatto. Ma sai che ho sentito sulle miele? Che ci mettono un lucidante su una boccia. Noia, vado sotto. Quindi occhio alla boccia. Controlli sempre. Eh, no, no, la lavata con l'acqua, l'ho strafinata con lo straccio. No, perfetto. Perché sono attenta a seconda. Perfetto. Perfetto. Prego, venga pure. Sì. Preferisce una stanza privata, così ci riferisce a tutto. Sì. E' il registro, perfetto. Ci sei qualora. Prego, venga, venga un collega. Ah, ok. No, non era di qua. Cosa c'è facendo chi? Una stanza... Ok, no, sì. Era lì o sono di sopra? Sì, no, di qua, di sopra. Ma quando è avvenuta, signore, questa cosa? Eh, poco fa. Ma lei è un avvocato, veramente? Sì. Cioè, con questo stile, un avvocato, un nostro stile, non l'ho mai visto, sinceramente. Ah, beh. Mi so quali che si versano sempre eleganti e tutto. Eh, non sto in servizio. Ci mettiamo qui, sergente. Che dici? Se desiderate, prego, va bene. Allora, un attimo solo. Un attimo che prendo il da qui, non va qui. Perfetto. Proceda pure... Con la denuncia. Mi dica. Ah, no, no, praticamente stavo... La famiglia, perché mi aveva chiamato Shatti, no? Perché sono tre anni, no? E... E nada, allora... Vabbè, ho incontrato... Ho incontrato il signor... Il agente, perdone. Il agente Tanaka. Che... Mi stava chiedendo... Il telefono, no? Grazie. Appunto, le serve un avvocato per quella storia, va bene? No... Non è... Sì, per l'altra. Ok. Sì, sì, sì. E va bene, mentre che stavo... Stavo dettando il numero... Per sbaglio mi ha ammanettato... Il signor Tanaka... Il agente Tanaka mi ha ammanettato. Vabbè... Non è se... Cioè... Non è se il problema mi stava per smanettare. Quando è arrivato il agente James Foster, appunto... Che mi ha preso da forza... Mentre mi ha ammanettato... E mi ha portato nel privé... Nella stanza... In fondo alla direccia. Ok, quindi era voluto dall'agente... Proprio... Sì, sì, sì. Di forza. Sì, sì, infatti io dico... Signor Tanaka, signor Tanaka... Aiuto, aiuto, per favore. Ok, quindi non era... Di... Per scherzo, ecco. Ah, ma neanche per scherzo... Queste cose non devono avvenire. Comunque... Proceda... Vabbè, finché si scherza, si scherza. Ok, ma... Va bene. E vabbè, vabbè, mi ha portato nel privé... Nella stanza in fondo alla direccia... E... Donde appunto baila l'ombre, no? L'unico ombre... Sì, sì. E... Mi votevo obbligare a soffrire del servizio, no? Ok. E... Dice... Vabbè, vabbè, dicevo che ha chiesto una ragazza molto carina... Una cica molto carina... Mmm... Quando io, vabbè, dicevo, vabbè... Non ne tengo bisogno, no? E... Poi, insomma, mi ha cercato di inventare la scusa... E non tenevo il dinero, no? E me diceva... No, non ti preoccupa, se devo io il dinero... Qual è il problema? Ehi, vai, 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 vai... No, quindi sul stipendio pagherebbe pure una roba del genere, sto qua. E poi è arrivato un signore... È arrivato anche Tanaka, eh... Quindi me è liberato... È arrivato a Sara lì. Ok, fino... Quindi... Dal momento in cui... L'ha presa... Il signor Jane Foster... Il collega Jane Foster... E l'ha portata... Fino a dentro ai privé... Lei era da solo con lui? Conferma. Eh... Sì, certo. Perfetto. Ma vabbè, è arrivato un pochino di persone... E mi ha lasciato andare per qualche... Lei ha chiesto aiuto, aiuto Tanaka. Come? Lei ha chiesto aiuto, ragione Tanaka, cosa che aveva detto? Sì, però il signor Tanaka stava ammettato lui tambien, perché per sbaglio l'aveva ammettato un altro signor. Chi l'ha ammettato Tanaka? Eh... Non ho visto chi l'aveva ammettato... Non so se è stato direttamente il signor Foster o meno... Questo non lo sa, quindi... Quindi hai togliato Tanaka, aiuto Tanaka, quindi Tanaka l'ha visto mentre un po' se lo portava via. Eh sì, però il signor Tanaka gliela diceva... Eh, eh, sto ammettato, eh. Ok. Altre cose da riferirci? Altre situazioni? In quel momento intendo sempre, altre... Magari parole... Che le ha detto? No, va bene... Cioè, quando mi ha detto che è una cica molto carina a chi, io le dicevo... No, no, ma io tengo già una... La donna è la migliore del mondo, cioè... Ho detto sinceramente. Ok. Eh, basta, vabbè. Ok, perfetto. Riferendomi alla mia ragazza, vabbè. Poi questo non dettaglio. Ok. Eh, perfetto signore, io qui ho annotato tutto. La ringrazio molto per la denuncia. Ok. Grazie, siamo Sotros. Ok. Perfetto. Grazie. Eh, può andare, ci occuperemo noi adesso per... Sì, riguardo al collega o si occuperà qui la sergente. Eh, noi comunque rivi... 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 rivisioneremo la denuncia. Le bodycam e le denunce, certo. Sì, tutto quanto. Tutte le bodycam e se vuole nel mentre lei può parlare con un avvocato e andare anche a tribunare per questo motivo. Sì. Ma per dire che prima ce la occupiamo noi. Magari se preferisci... Sì, sì, sì. Magari prenderemo un problema in interno, ecco, magari. Se la recidere, ecco, se non vorrei... Sì, sì, certo. Vuole che procediamo noi solo internamente con magari punire la persona? Eh... Diciamo che non... Non crediamo che voglia di continuare su un processo... Quindi ci occupiamo noi solo internamente, facendo interne. Sì, ovviamente. Se la bodycam del signor... Sì, sì, la bodycam del signor poste non stava accesa, stava la bodycam del signor... De la gente italiana anche che per... Sì. Mi chiamerò Riotanaca. Sì, mi portava del forza dentro la stanza dei privati. Sì, adesso chiamiamo tutti e due... Ciao, te la cassa di inizio. Ho bisogno anche venire in centrale, un attimo. Prenderemo un provvedimento. Sì, sì, sì. Sono tu da solo. Non da solo, se vuoi... Vieni in centrale. Ciao. Ok, vuole un caffè qualcosa? Vuole un caffè qualcosa? Eh... Guardi, guardi, le do un caffè, venga, venga. Ma io sto un caffè... Dopo, quello che è successo... Vai, le accupro... Le ho più un caffè. O preferisci una bibita? No, no, un caffè, un caffè. Guardi qua. Metti che ho la chiavetta dentro. Ah, sì, sì. Perfetto, ok. Vedete pure il collage, c'è il caffè che vuole. Sì. Vieni, prendo la nostra lista e mutare il micro. Eh? Potrebbe essere un dettaglio... Eh, ok. Sì. Eh, aspetta un attimo per me, perfetto. Eh, praticamente, il signor... Ah, il signor Foster, le gusta la signorita Bish, Eccola, è uscita il caffè. Come? Beh... Sì? Sì, signorina... Su, è fianzata la signora, il signore. Sì. Sì? Mi gusta... Eh, quindi... Ci ha provato? Sì, ci aveva provato in passato. Allora, adesso che... Con chi? Con la signorita Bish. Ma in divisa o fuori servizio? Ah, questo non lo sape. In divisa... Perché se era in divisa è un problema. No, se era in divisa è un problema. Se è fuori servizio, non sono affari nostri. Esatto. Quindi... No, stava ancora in divisa. Chiede alla sua ragazza se era in divisa. No, la posso confermare io, San Vien. Ah, ecco. È sicuro che era in divisa, quindi. Ti dica, sergente. Alla... Alla dove sarà? Cogliere la carne? Sergente, mi voleva. Io vieni un attimo, ti vado a parlare. Va bene, quindi vabbè, finisco a dirlo a lei. Praticamente... Tu pari chiama, ce sa? Sì. Da quando? Da quando sono i servizi. Allora, io... Senti, mi avevate l'assignalazione di un agente che... Un'attempienza di un agente, diciamo, in servizio. Un comportamento scorretto. Non sei tu quella gente che ha compiuto un agente scorretto. Ma è stato il tuo partner che ha raccontato il vanilla unicorn. James Foster. Quindi adesso tu mi devi confermare... Ti farò qualche domanda. Mi devi confermare se ciò che dico è vero o no. Eh, la cosa bella è che sono stato ammanettato pure. Ascolta un attimo. Ti faccio delle domande di suoni se è vero o no. Ok. Tu hai ammanettato per sbaglio, signor Tiago Garzia. Sì. Poi... Ehm... Lai è smanettato subito. Perché stavo prendendo il cellulare. Esatto. Lai è smanettato subito. Ehm... Oddio. Lo stavo smanettando, però c'è stato un piccolo problema. Ho preso un'altra persona, non mi ricordo chi. Ok. Ehm... Vediamo Foster. Con chi è che sta parlando Foster? A nessuno. No, in internet. Vediamoci da qua. E' arrivato Foster poi dopo. No, stava già con me. Ok. Ha preso signor Garzia di forza. Oddio, non... L'ho visto che l'ha trascinato. Chi l'ha preso di forza? L'ha portato dentro? Eh, l'ha portato... Eh, l'ho visto che l'ha... Mi sono girato ho visto che stava trascinando. Ok, ma lo portava dentro la vanilla. No, era già dentro la vanilla. Ok, che lo portava nel privé. Eh, poi non l'ho visto più perché... Mi hanno messo delle fascette. Ok, ma... Eh, te l'ho detto. Eh? Fasce... Chi te l'ha messa le fascette? Eh... Penso che sia il proprietario del... Del vanilla. Ma perché ti ha messo delle fascette? Ma che cazzo, mi sono... Penso che voleva liberarmi. Non lo so, voleva liberare il signore. Non lo so. Vabbè, eh... Quindi confermi che il signor Foster... L'agente Foster ha compiuto questo, diciamo... Beh, non so, Bened, che cosa ha fatto effettivamente. Se l'ha portato. Magari l'ha spostato. Ma il capitano? Non lo so, questo non lo posso assicurare. Quella sopra, capitano. Perché ero anch'io, diciamo, in una situazione un po' scompa. Tu hai sbagliato mentre le manette, beh, che ti hai fuori il cellulare, quello può capitare a tutti. Infatti, Diego non dice nulla contro di te. Però tu hai visto che Foster ha avuto questo comportamento scorretto. Devi dirvelo io. Sennò vado a contare... Eh, lo so, ma il problema è che sono stato abanettato. Eppure io, stavo cercando proprio il mio collega. Non lo trovavo. E quindi non so dove che cazzo di fine abbia fatto. Ok, quindi tu non hai registrato qualcosa di importante. Eh, spettacolo controllo. Ok. 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 Eh sì, lo portava nel privè, sì. Ok. Si riesce a farmi quel pezzettino in cui c'è stata la roba al casino. Da quando è venuta per sbaglio ti ago finché entrano e spariscono, ok. Non lo tagli, però vanno a live fare. Eh sì, ma la cosa bella è che lo stavo cercando per farmi liberare dal collega, ma non lo trovavo. Ok, perfetto, tu mandami un pezzo di video in cui hai ammanentato per sbaglio ti ago, da lì fino a che le vedi sparire dentro il privè, ok? Ok, fino a quando lo sporta nel privè? Finché non lo vedi sparire dalle tue registrazioni. Eh, ma poi lo stavo cercando per lo trovato nel privè. Allora, finché lo trovi. Grazie, non uscirà la tua nome a nessuna parte. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Brandy. Andi sotto. Ok, sto scendendo. Ecco, sta arrivando. Ok, ho chiesto le poliche a Mario. E ha trovato le registrazioni in cui vede Foster. Ok, dove siete? Sono sopra, sopra. Sopra le scale. Sopra le scale, sopra dove c'è il caffè lì. Ok. Allora, io ho visto, ho parlato con Ryu. Sì. E mi ha detto che al suo bodycam si vede Foster che porta dentro, diciamo, il privè, diciamo, Garcia. E poi, al lettore, ovviamente lo cercava, non lo trovava, quando l'ha trovato erano nel privè, Garcia e Foster. Potete mandare il pezzo di video della polycam in cui fa succedere tutto sto patto? Speravo non fosse vero, ma, a quanto pare, è vero. Questa è una brutta notizia. Sì, è brutta. Metti in più la luce al dipartimento. Esatto, non è una buona immagine per noi. Va bene, soprattutto se è un avvocato, quello che l'ha fatto, che ha una grande influenza nei cittadini, è un avvocato. Eh. Va bene, vado a parlare con Foster. Io, mentre passo tutti i file della denuncia. Sì, perfetto. A me è passata malata in diretta, non pubblica da nessuna parte. Ok. Grazie. Di nulla. Ai, ai, ai. James Foster. Salve. James Foster. Ti apposto? Eh, sì, tu, ovviamente. James Foster. Come sarà il sacerife? Bene, bene. James. James Foster. Ma, eh, Sheriff, a chi è chiesto, no? Penso che non l'avevo mai visto. Si è addormentato. James Foster. Alcuno mi ha chiamato. No, James Foster, ha detto. Ah, cazzo. Vado a Brod. Come sta, sergente Sheriff? Che fa? Mi ti devo raccontare una cosa. Come sta, sergente Sheriff? Eh, se non sento un cazzo, aiuto che mi stanno parlando in tre miliardi di ori. Sì. Ok, dicevate che... Ai, 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 ai. Mi sa che Foster James l'ha combinata grossa. No, me lo dica così. Cos'è che ha fatto, Giovanni? Si è beccato una denuncia. Una denuncia, si è beccato. Ed è... Io ho confermato, ho ricercato, diciamo, conferma nelle bodycam del suo partner, commento ero lì con lui, adesso chiederò le sue e a quanto pare si me l'abbiamo fatto veramente a sta cosa. Ma cos'è che ha fatto? Ha preso una persona di forza e l'ha portata in un posto, obbligandogli a fare delle cose. Beh, io mi dissolvo, non è perché sono forse, non è forse. Ah, ma siete parenti? Beh, non chiusavo, cioè, non ho chiusavo. Ah, è una cosa, è una coincidenza. Sì, è un errore, chiedono come vuol c'è, diciamo, lasciamo stare. Meglio facci, ecco. Beh, mi faccio sapere come finisce. C'è dopo per il 1, eh. Quanto pare ti mette male per lui, ecco. Eh, ne avrà fatte tante, anch'io ne ho fatte tante di sto, non so da giovane, eh, però... Però non così, gravi, ecco. Cioè, portate di forza male Tatto, portate di forza nel privé del Vanilla, obbligandolo ad andare nello stanzino. Questa è una cosa molto grave. Ma che è tipo violentato nel privé, vero? No, no, però... No, non è... Non l'ha violentato, ma l'obbligava a usufruire del servizio del signore... Del signore... In fondo a destra del privé. Esatto, lo voleva obbligare. Ah, bene. Diciamo, si è beccato una denuncia per abuso, diciamo, per un po'... L'abuso di potere e... Ha fatto bene, ah, ha fatto bene, cioè, ha fatto bene a denunciarlo, chiaramente. Però anche abbiamo parlato e prendiamo solamente per i venimenti interni, nessun processo, nessuna roba penale a livello pubblico. Sì, non sarebbe una bella complicità. Esatto. Ma ti parlerò adesso col signore, se lo vedo qui. Chiederò il suo bodycam, bisognerò le registrazioni e prenderò una decisione, purtroppo ero un bello. So già. Va bene, e dai, vi saluto. Vabbè, poster, ciao, buona serata. Buon lavoro. No, buon lavoro. Madonna, che scompa. Dove è finito, sa James Foster? Un attimo che carico il video su YouTube e poi te lo passo. Il poster. Sì? Posso parlarti. Quando vuoi? Prendi vini pure, tanto. Dove sei? Ok. Si, sono adesso. Dove siete andati? Di sopra? Si, di sopra andiamo. Microphone activated. Microphone muted. Poster? L'ottoborica non sta andando? No. Ha funzionato? Stasera? No. Non hai mai registrato? Stasera. Stasera. Cioè, da quando tu sei in servizio, adesso non avrei? Eh, io fatico, devo trovare una giusta bodycam, ma ci devo fare. Quindi per il tempo sei prestato al nostro servizio. Se me ne aveva una da con... Eh, sì. Ma io ero con l'altra gente che ce l'ha. Per quello, quando sono in pattuglia, non ce l'ho in questo momento. Gli altri agenti, io chiedo sempre se ce l'hanno. Se non ce l'hanno, mi sforzo e l'accendo. Poster. In questo caso c'è bisogno assolutamente che tu mi passi l'abolica, ma non ce l'hai. Io, se sono da solo, l'accendo solo quando fermo qualcuno o quando c'è qualche altro tipo di evento. Quando sono al vanilla, anche se sono da solo, non l'accendo. Perché cosa è successo? Perché hai parlato da vanilla? Perché evidentemente, perché vi state recriminando sta cosa, anche prima me ne ha parlato di quello, quindi pensavo che l'unica cosa che ho fatto da quando sono entrato in città è quello. Quindi, che devo parlare. Allora, Foster. Ciò che è successo è abbastanza grave. Tutta una bugia. Speravo di non sentirla direva da nessuno, da parte verso il mio agente. Sì, lo posso spiegare però. Contro un mio agente, però purtroppo oggi l'ho sentita sta cosa. Sì, posso spiegare però. Un attimo. Ho verificato, diciamo, sentito la denuncia, la parte della persona denunciante. Ho verificato, ho variate cose, ho chiesto alle altre persone. E a quanto pare purtroppo confermano pure queste persone la stessa cosa. E chi sono queste persone? Cercherò di farvi mandare dei materiali video a parte di altre persone. Ma le posso spiegare com'è andata la faccenda? Mi visionerò i video. Se i video confermano si mette un po' maluccio per te. Ora vuoi spiegare? Allora, è successo così. Io sono entrato al vanilla, ho visto che per sbaglio l'altro mio collega ha manettato l'avvocato. Io l'ho preso, l'ho trasportato nel privè per smanettarlo, perché se no, se avessi smanettato, ha manettato un altro. Sono entrato, non l'ho più visto, è sparito per problemi visivi, non so cosa è successo. L'ho cercato e poi sono entrati gli altri e l'ho smanettato. Questo è successo. Perché, cioè, io sono cadetto, sono da due settimane cadetto, sto cercando di diventare ufficiale perché dovrei fare queste cose. Non ha senso. Diciamo che lei è caretata una settimana, due giorni. andata la domenica, donedì, cos'era? 22. Vabbè, comunque, sto cercando di essere promosso. E perché dovrei fare queste cose? Certo, Foster, io ho testimonianze vocali, o testiamoglianze video che lei porta da parte dell'avvocato, che lo sa che l'ha denunciata. L'avvocato? L'avvocato è geloso perché... Diciamo che... Ecco cos'è. Cos'è? L'avvocato è geloso perché una volta a due sono riuscito con B. Ecco perché fa così con me. Io dico... Ecco perché, perché lui mi guarda sempre storto quando lo guarda. Io dico... Quando lo incontro, tu mi guarda storto. Il fatto che tu non abbia la bodica maccesa... Che altra cosa è la cosa? Eh, il fatto che tu non abbia la bodica maccesa, non abbia avuto la bodica maccesa, ti mette in una brutta posizione. Perché qui noi abbiamo una testimonianza vocale da parte della vittima, una testimonianza video che testimonia il fatto che tu sei sparito per un po' di tempo nel privè, e tu invece che non è la bodica. Lui è sparito nel privè. No, e tu con te? Con te? Non lo capisco. Cioè siete nascosti nel privè e siete spariti, diciamo, mi cercava... Io stavo cercando... Io stavo cercando... Ti ero ammantato. Ecco. E lui, il collega, mi stava cercando perché l'avevo portato nel privè. Però capisci che il fatto che tu hai la bodica spenta... Io mi tocca... Mi tocca... Finisci nel torto. Perché uno ha la bodica obbligatoria. Sempre. Sì, ma è obbligatoria non sempre. Quando sempre. Obbligatoria... Poter registrare tutto, perché è una minima cosa, può causarti problemi. Ok, ho capito, ma non è obbligatorio registrare tutto. Bisogna registrare i permisos tradali. Tu hai ricevuto una denuncia e la tua bodica può salvarti. Tu non hai la bodica, tu sei pregato. Questo è il problema. Ho capito, ma allora io denuncio ogni persona e ho ragione io, perché non hanno una bodica. I civili non li puoi denunciare per motivi... Perché? Ci sono anche testimoni. Ci sono testimoni? Che testimoni? Per ogni denuncia ci devono essere testimoni. Se non ci sono testimoni o prove, la denuncia. Un video e una persona. Quale video? La bodicamma di Ryusuke. La bodicamma di Tanaka. Ok, io lo porto dentro il posto. Eh, io l'ho detto e l'ho portato dentro il posto. Ok, ma ciò che è successo dentro non è registrato da nessuna parte. E il fatto che tu non abbia la bodica è una prova contro di te. E... Foster? Foster è obbligatorio portare la bodica ma accesa. H24. Noi lo chiediamo ai bandi per entrare. Noi lo chiediamo ai bandi. Io lo chiedo sempre ai bandi, vi lo rendi? H24, dico sempre. Perché tu devi poter registrare H24. No, mi hanno detto per ora dovete decidervi perché non è che appena mi dite le infermiche stradali, la fine o... Tu devi poter registrare praticamente sempre perché se poi ti capita una cosa del genere finisci nel torto. Sì, però scusate uno mi dice una cosa tu mi dici un'altra un altro mi dice un'altra io così ti devo ascoltare. Allora, è obbligatorio assolutamente averci durante il traffic stop e i corrici importanti. non è quello il problema. Aspetta, ma se invece succede che ti arriva una denuncia e non c'è una tua dimonianza che ti posso scagionare, ok? Dico scagionare perché è il termine magari più corretto che mi viene. Non, non, sei intorto. Sei intorto. va bene, va bene, va bene. Sono intorto. Io la coscienza pulita ce l'ho. Io mi sto impiegando per diventare ufficiale quindi non avrei nessun motivo per fare questa cosa. Comunque ascoltate Tiago che vi devo dire tanto io la coscienza pulita ripeto ce l'ho. Boh, non so più che dire. Quello che ho fatto l'ho detto non è niente la nascondo. Vabbè, non devo neanche raccogliere i tuoi materiali video quindi non ce li hai. Vabbè, puoi andare. Arrivederci. Arrivederci. Vabbè, materiali video di riusso vedo se me li ha mandati. Sì, io ho 5 minuti sono pronti. sono in elaborazione. Mi mandi il pezzo di video in cui vedi la bala. Non ho capito. Eh, lo sto editando, aspetta. Ok, quanto ci vuole circa? Eh, finito. Perfetto, ottimo, appena riuscì carica le mandamelo. Ciao. Eh, purtroppo la denuncia è arrivata. L'era denunciato. Però a me me l'hanno denunciato, me l'hanno portato in tribunale. Quando? però quasi mi ha detto che praticamente ha rinunciato alla denuncia, però devo andare in tribunale lo stesso. Ma io non ho ancora saputo nulla, come mai sta cosa? Perché non me la dici? Nera P? Eh? Perché non me la rinventi in R.P? No, dimmela. ciao. Vieni me la dire, ciao. Vabbè. Ho appena saputo fare P che Ryu è stato chiamato in tribunale per un altro motivo, cioè, eh. Sì, sì. E nessuno me l'ha detto. Non te l'avevamo detto? Però mi sa che era fuori servizio quando è successo. e vorrei sapere come mai, però. Vabbè, chiamare Ryu e fattilo dire in R.P. Vabbè, me l'ho già letto su T.S., quindi me l'ha detto in R.P. Ma vabbè, niente, andiamo in giro finché non ricevo i materiali. Fammi caricare un attimo il video se no mi lagga tutto non posso crashare. Tempo che si carica il video è 5 minuti, proprio. è il mentre chiama Ryu che ne so. Fate spiegare un po' cos'è successo. Nel suo fatto? Sì. Io so che è successo tipo una cosa con cose. Vabbè, eh, me l'ho seguito a fare P. Non posso. vabbè, allora niente. Hai ragione. tu non lo sai di R.P. eh sì, ma non me ne posso uscire così. Infatti. Cioè, non me ne posso uscire dal mondo. Cioè, io lo so perché me l'ha detto Ryu in persona. non me ne posso uscire dal mondo. Anche perché non l'avrei fatto. sì, è stato avvistato un collega sceliffo a vista dal signor Paul Jackson all'aeroporto di Sandy. Io non so se adesso è venuto perché è sotto libertà vigilata. Sì, ha firmato di essere uscito. Mi riesco a muovo. Oddio, mi sono... però mi... bene, sei occupata? veniva circa un quarto d'ora fa. Perché? Quando risulta. Come non getta? Niente. Dimmi, dimmi. Dove ti vengo a prendere? Eh, sono... ti mando la posizione, ok? Venga la posizione, vedo se sei troppo lontana, vedo, forse non riesco, però sei vicino al... vicino all'una park, circa. magari ci riesco, dai, ci riesco a prendere voi. Ok, dai, mi arrangio, mi arrangio. Perfetto. ma ti vengo a prendere Mark? Perfetto. Non c'è? Siamo, siamo in due, io e Thea. Ah, non lo so, ci ha piantato, ci ha piantato a chiacchierare con, con un solo di cuore. E poi ti vengo a prendere, ciao. Mando me la posizione. Mando la posizione. Perfetto, ciao. Andiamo ora, intanto. Eh, ha detto, eh, non la mando con, con Ryu. User was moved to your channel. Sei in game? Ma porco Giuda. Sei in game? Com'è? Sei in game, Artic? Se non erro, sì, ma... Non lo so, non so il secondo. Mi devi coprire una pattuglia, perché non posso mandare, non posso mandare, Santo con, con Ryu. E, dove vai là? Perché, arriva a denuncia, eh, perché, Santo è stato denunciato da una persona, arriva aiutato, nel, nella denuncia, quindi non voglio mandare insieme, perché ho questioni personali. Quindi, se potreste stare dove... Eh, ma io, essendo che adesso mi sto occupando di un caso, sì, un caso, tu, ci sono due, un detective, due, ci sono un detective, un ufficiale, tre, due, e uno, e un canetto che, diciamo, serve, non so per qua, perché aiutano nel processo. Sì. E tu devi starle sotto, per favore, dai. Sento che io mi sto occupando di un'altra cosa, volevo capire come procedeva la vostra roba qui. Oh, guarda, Wilson, vado, vado qui. E io mi sto occupando di un'altra cosa. Va bene, ma fuori città. Vabbè, è andato fuori città. Vabbè, ciao, divertiti. Chi è andato fuori città? Sì, salto, ciao. A posto. No. Vabbò, andiamo... Si sta elaborando, cosa. Questa che vedo un attimo... nel video che mi ha mandato. Adio. più o meno quanto tempo fa stavamo, Alvarilla. 20 minuti fa. Sì. Ah, ok. Vabbè, su Google Drive li mette lui i video. Cazzo, di cosa vuoi tanto a mettere il suo zoom? Adio. 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 Mi dia il suo numero. Lanciagli un po' di ghiaccio sulla... Oddio. Oddio. No, è perché... Maledetto. Maledetto. Eh, no, è da... Cazzo. Posso, mi dicevo. Eh... Correggo, eh... aveva morito del gruppo Paul Jackson, eccetera, almeno di fa, al vanilla, non 15. Vi ce l'ho avuto. Eh... Al vanilla? Scusa, ehm... Sì. Oddio. Piano piano, parole vostre. Che cosa vuole dal vanilla? Scusate? Niente, niente. Tutti in arresto. Eh... Parlavamo di un'altra cosa. Eh, ma... Qual è la... Oh! Ricordi, mi vinto. Eh... Dottor... Ma sono pure ammanettato, mi hanno detto... Ah... Mi metta. Lo portiamo qua in fondo a destra. Dottor... Oh, liberami! Dottor... Liberami! Eh, Ricordi, si sente attraverso il muro che dice così, però non possiamo usarlo a conto di lui. Cioè no, in realtà non si sente attraverso il muro. Eh... Venti. Dottore! Liberami! Liberami! Dottore! Liberami! Liberami! Dottore! Adesso tu... Adesso tu... Ma come campo intendi la coca o come campo intendi la coca o come campo intendi la? Ah, come la vicina palestra che sono al campo appornato di te! Perché c'è un... Elison, pronto? Ascoltami... Non venire... Oh cazzo, Elison, vero... Ti ridimitati per me? Eh... Elison, senti difficile la situazione... Sviarli, sono sovraffatta dal lavoro. Ok, ascoltami tesoro, non serve che vieni, ho fatto diversamente. Va bene, scusami. Ti ringrazio comunque del pensiero, d'accordo? Scusami, non ero tanto, Elison. Tranquilla, ciao, Emilio. Ciao. Questa tua martuglia? Com'è? Questa tua battuglia? Sì. Eh... Le ho mandato il video della denuncia, andiamo al campo, a Paleto. Eh, per me che sei al campo, ok, ma se la coca non posso. No, no, so qual è. No, è il campo... Altanaca esce fuori servizio. È il campo. Eh, Shadiff, tutto bene? Stavo controllando, arrivato un collega adesso. Ma campo... Il campo di marijuana o il processo? Il processo. Eh, allora non posso venire io. Ah, no. Siamo in zona, in caso metto oscuro i miei droni. Altanaca va fuori servizio, bene. Fuori servizio o fuori città? Ma puoi servizio. Bravi manicitare, mani. No, no. Va bene, devi chiedere, ma che dici? Chiedi, non... Chiedi di andare fuori servizio, non dici. Posso andare fuori servizio? Sì, vai. Sì, vai. Sì, vai. No, è per me, ho correttezza. Sì, va che non può dare davvero tutte le foto, lo mandi fuori con le foto. Hai fatto vita che tu... No, 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 io le dà lo stesso. Andiamo a fare benzina e poi... Allo YouTube. Analizzerò i video... Più tardi, stanotte. Magari... Come? Analizzerò i video poi dopo. Ok. Non lo rendo pubblico nel dipartimento. Lo posso tenere. Cosa? Lo lascio a te. Cosa? La fondina. Sì, se vuoi, sì. Ma dove ti serve il... Distintivo? Se vuoi, sì. Sì. Vabbè, posso dire che ce l'ho addosso, però... Sì. È tutto pulito. C'è una macchina nel posto abbandonato. Adesso concludiamo. Dici quattro. Sergente, andiamo un po' a fare benzina e poi... Sì, va va. Allo YouTube, l'acqua controlla. Se può annunciare in radio che stiamo andando lì, per favore. Sì, sì. Sì. Va da muro, dopo va allo YouTube a controllare. Ah, sergente, un'altra cosa. Sì, mi dica. Devi dire al capitano di rifornire la centrale di bevande. Eh, me ne sto occupando io. Ah, perfetto. E ci sono delle costate dentro. Che si è lavorato a Ronnie Jackson. Perfetto. Però... Diciamo che... Sono molto golosi. Le agenti, sì, lo so. Le agenti. No, non sono... Non sono comunicanti. Andiamo prima allo giallo, Jack. A dire... Quest'auto. Lasciamo dentro. Ciao, Microsoft, ti ha inviato. No. No. Ma io poi rimani Radio tu collegato. Ma io no. Ma io poi rimani Radio tu collegato tu. No. No. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Occhino. Non c'è nessuno. un po ma la mia città io tu le quindi non lo voglio ma con te la di tu e poi andiamo a città ho rotto il vetro eh ronnie jackson sei in servizio tu adesso? si perfetto poi quando Ro si libera da questa faccenda del interrogatorio vai con lui salve gente salve salve Edoardo tutto bene come sta signor DeSantis? tutto a posto un attimo ok sto vendendo cibo come al solito qualcosa da segnalare? nulla? no niente c'era qua prima altro ragazzo un po' è arrivata gente nel locale l'ho fatto scappare io l'ho fatto sapere che la bistecca era deliziosa come l'ha costata si si certo cosa ha detto? è contento? si detto che se vieni con una bella ragazza ti falla già una galante e niente va bene portaci la gente no? no vedrò di portare la mia moglie da Detroit la vecchia l'hai sposata eh come è nato moglie? guardate come mi chiamano si ti diceva ehm senti ma che cucinata vuoi? ancora mi chiamata? no no wait ah questo è Wilson cosa mi piace la casinata ah ok va bene bene eh Drake sa cucinare bene io faccio gol è molto elegante è molto elegante eh Drake ah 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 si bene spero solo che non ha un veleno in cibo ecco però dai ci sta no bene bene ogni tanto se vuole saperlo prende la carne cruda te la mette sul piappè niente dai facciamo che non è questo no 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 ci dica si mette prende la due pezzi di carne cruda no? si ci metti dentro l'uccello no? e immagina il resto puoi lo fa veramente o sta scherzando? si chiude nell'ufficio di Drake che sarebbe il bagno e fa queste cose no ma non c'è proprio ma eh eh l'ufficio di Drake il bagno si eh vabbè sai l'ufficio ce n'era uno l'ho preso io ma io pure voglio l'ufficio c'era quella stazza ho detto prendi il bagno vabbè succede succede quindi era il sapore del suo cazzo no dai quella no per favore tendiamo a buttare almeno bene non tornerò più al mojito arrivederci bene Drake e Michael Waits avanti sarete perseguitati ve lo dico con Falcon 1 ah negativo sto per uscire guarda come si caglia sta scherzando giusto secondo chiamo Cornelius si si poi ad up 3 di venuto di perciò di utilizzare Falcon per seguire il signor Prodietti per riguardante cosa riguardante il processo dato che ci sono delle scongruenze lo devi seguire per quale motivo ecco potrebbe essere di nuovo preso da imputato mi ha permesso accordato perché non abbiamo ASU disponibili a parte me che sono lontana ora a proposito a proposito non mi fai pentire della scelta mi raccomando io mi sono candidato come ASU non so se avviso si ma cavallini sparito ah ok dobbiamo aspettare chi è chi è ah l'incidente ma fermati mi sono l'incidente fermati stanno risolvendo andiamo a vedere che succede tanto non c'è un cazzo da fare vuoi andare in giro a fare nulla bravo a fare tra marcia in autostrada ma non ci devo uccidere vai vedere dove stanno quelli della ferrari ma te sei accorto qua giù cosa quello lì che ci ha sfiorati si l'ho visto un attimo c'è un'emergenza vabbè tutto bene si no mamma mia l'ho schifato per un bene si sa questo c'è un incidente qua sotto scusi no 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 importante che state bene non mi preoccupando è successo nulla io non ho sentito nessun botto quindi no no non c'è nessun botto mi dispiace comunque per la retromarcia no e il mio cuore che si è fermato in quel momento va bene niente a posto non avete bisogno di nulla devo chiamare qualcuno no 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 da posto ok va bene mi scusi no niente si figura buona serata buona serata tutto bene si 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 tutto bene tutto bene cosa è successo non ci sono meccanici io ho messo due barriere alla macchina ah ok una voce un po' più vera ma guardi cioè sono un baus sono stato tutto il tempo a fermarmi quando devo parlare faccio silenzio sto parlando mi sono fermato tutte le volte che dovevo rispondere al telefono no oh mi fanno una chiamata e tenta poterla fuori il telefono sono uscito fuori strada ahi 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 quando è che mi dai 2500 dollari vabbè signore io torno in servizio buona serata buona vero grazie mille molto colpese di nulla di nulla gli anni si sentono eh l'avvocato per lei che le avrà passate tutto il tempo a fare un lavoro di ufficio magari si bravo l'ufficio io beh minchia povera macchina insomma ai 2500 dollari vabbè a vederci si paghi un buon taxi a vederci eh si si brava brava ci trovi un buon taxi brava brava la cittadinanza sta già sapendo come si sta comportando eh io l'avviso come si sta comportando scusi che non paga le persone che lavorano prego rivederla buona giornata non sono io che devo pagarla mi stia bene mi stia bene in botta eh in botta mi raccomando forza arrivederla gasp e niente ma come mai tutto questo ostro con l'avvocato ah ci becchi su vai 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 non c'è il radio che abbiamo visto abbiamo una moto a molta velocità a direzione città che va troppo veloce non la stiamo perdendo è una moto bianca alle nostre spalle abbiamo un anche un chip ceroghi bianco vai vai te superata pattuglia le spalle abbiamo un cirughi bianco che ci stanno alle spalle una moto bianca è dietro la pattuglia dei sceriffi siamo ma cosa l'ospedale mi sa che ormai è bella che è andata quanto cazzo è veloce quella scelta no persa che è una moto così veloce che penso una di quelli con i baudi di fianco bianca penso è una cuccio rossa ma cuccio rossa o bianca rossa è rossa io l'ho vista è bianca ma vabbè e dai di chi è il cirughi chi è il cirughi lì vai al cirughi mi scusi si mi scusi ehi e la salve era l'ecolo in autostrada era l'ecolo in autostrada vita di noi no io sono appena arrivato dal centrale dal centrale sicuro sicuro abbiamo visto una moto rossa all'altezza del bianca tutto il cavalcavino secondo la mia polica a me vedo che si vuole il palo così gente si vuole il palo così non è un problema comunque se vado la mia polica a me vedo che la sua macchina è quella che ha detto noi cosa facciamo guarda gente che vi devo dire vabbè salve cosa state cercando sentite a radio finalmente in live già lo so già lo so finalmente in live l'avete trovata? no però al vanillo l'avete trovata molto sass c'era anche un veicolo bianco ha detto? un sol? si un cirughi nero un cirughi bianco che ci stava dietro la prima in autostrada un jeep cirughi un cirughi bianco che ci stava dietro la prima in autostrada anche lì era dietro che correva vero vabbè io giuro di aver visto la moto che era nero bianca no io l'ho vista rossa live la moto era bianca o non lo so secondo voi il vestito era bianco oro o blu e grigio No Come l'hanno vista? L'hanno vista bianca o rossa la moto Boh io l'ho vista rossa No, guarda, 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 guarda delle live Purtroppo non abbiamo la targa anche se fermiamo la guccia rossa Non possiamo definire le stelle Già Sì, paghi un buon taxi, vederci Sì, sì, è vero Sì, qualcuno lo scavrà da forza andare tutti a ferri E niente Ma come mai è giusto a questo asco con la buccia? No, vai, 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 vai Confermo, guccio rossa Gli occhi non sbagli Che va troppo veloce Non la stiamo perdendo È una moto bianca Alle loro spalle abbiamo un cero di bianco Ha visto che ha fatto? No Ha svoltato all'improvviso a sinistra E si è schiantato su di noi Confermo radio a Couchu rossa Ha riguardato la bodycam Ma scusami, ma se la rivediamo Non possiamo fargli nulla Sappiamo se è stata l'aria ad andare a 300 ore Non abbiamo una targa No, era troppo veloce Correggimi Eh? Correggimi se dico una stupidaggine No, no, era troppo veloce Io non ho abuso la targa Quindi no, non posso fermarla È inutile Ma se di nuovo corre La vediamo La seguiamo un po' Vediamo se corre ancora La fermiamo Certo Ma che facevano tutti i infali con la donna? Ah, ma miscala i soldi dal colombo, ok Ma che c'è? Ma tutti e quattro in elicottero siete? Eh no, gli altri sono buttati Siamo in elicottero completo Ma in quanti siete? Siamo in due, io e... Due Per il loro Ok Gli altri no Vabbè, niente Sfalto Che ho già la sentenza in mente, eh Sto dicendo che forse... C'è di... Soprano Non l'avevo riconosciuto Con il giudice mi sembra c'era in macchina Ah, mi sa di sì Sfatti che cambiò il... Madonna, non mi sapeva che era secondo il palo, vabbè No Demi domani sera ci sono Domani pomeriggio Mattine pomeriggio no Ok Microphone muted Sì Ci dica Oh, guarda, guarda che hanno messo i parcheggi qua, guarda a sinistra Guarda che hanno messo i parcheggi qua, guarda a sinistra Guarda che hanno messo i parcheggi? Sì, sì, sì Che belli, i parcheggi per disabili Ma l'ha visto invece l'ospedale dentro Certo, certo, l'ho vista anche se l'ha tornato Anche il tequila nuovo l'ho fatto, andiamo a vederlo Andiamo, andiamo Cioè l'hanno ristrutturato perché... Ma non di tanto Mi ha messo e bagna, l'ho messo Ah, no Comunque quella fa Roma, Giulia, si aspetta Ma come corre quella davanti? Ah, non l'ho vista Testa, vedi che l'ho oggi piena Devo fermarla No, 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 basta No, andiamo a tequila Oh, madonna, l'ha sbagliato contro Davvero? Attenzione, signore Scusi Signore Ah, signorina Ah, ok, sì, mi scusi Mi scusi, è stata il cellulare che non è stata Attenta a quello che gli dico No Ah, la vedo un po' Un po' Un'attenta Tutto ok Vabbè, ciao Carmen Ciao Andiamo Ah, vedi, 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 scurato E ora sono legal Ah, purtroppo E purtroppo per noi Ah, già C'è qualcuno al tribunale Forse Ma Medici Medici, da giù che è? Vabbè Ah, la resa dell'avvocato Sì, ho visto Dami L'ospedale Vanilla Tequila Sono stati fatti nuovi Un po' Un po' Sì ma lo stanno utilizzando questo locale o è stato aperto per un giorno come il comedy si hanno usato un po' nei giorni però non l'ho più visto oramai oltimamente sapevo di un titolare francese che ci lavorava ma altro non lo so vogliamo entrare dentro si vogliamo entrare dentro tanto non c'è nessuno vediamo un po' qui a Damuno siamo nel peggio salve salve signor signore salve buonasera bodyguards a tutto più sistemato non so perché i bagli belli bagli guarda qua la gente può andare in bagno finalmente bellissimo pure l'asciugamano il parquet per terra qua c'è qua la scaletta per andare sotto è un po' di carta pesce cioè non ha la saldatura sotto ce l'ha solo qua sul parquet è un po' un po' un certo sopra invece è un po' di carta sopra invece è un po' di carta sbattere ma cosa è sto bussante rosso non ci sono birre per terra cosa è sto bussante rosso è l'allarme del può schiacciare del locale no però noi mi sa che non possiamo non è l'allarme del locale noi non possiamo mi sa prova eh sì non possiamo non possiamo noi no no cioè non l'ho premuto io ho provato no non puoi andiamo si jackson ha filmato l'entrata 18 e 40 e 30 no 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 ha filmato anche il 100 tipo adesso no adesso no adesso l'ultima cosa che ha fatto è l'uscita alle ore 23 è la sera dove vogliamo andare? andiamo alle scout e devo comprarmi un po' di da bere che ne dici? pip pip è appirando a tequila? si è il mio orologio mmm bene bene prima non mi diceci di fa l'aveva avvistare l'aeroporto di 70 che si è il nostro potrebbe essere potrebbe essere che abbiano firmato e poi sono usciti fuori città eh potrebbe essere che abbiano firmato e poi sono usciti fuori città prendendo l'aereo Sandy no ma l'ultimo probabile avvistamento di avere di 5 minuti fa non di metto ore ma di chi? mi sa che stanno a paleto comunque tutta la grotta con Bricola di Bricola parli di Paul Jackson dove pensi che siano? l'hanno avvistato nelle zone di paleto andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo prima a un market che mi è andata a bere se non muore se no distributore incentrato eh sì anche andiamo andiamo ecco falcone ho visto l'omba anche che ho visto l'omba però non le vedevo vado al volo è che è la bandella è un sugo 4 punti bianco piazza centrale vedo sia un scirocco è un l'agip scirocco c'è lui eh ma non abbiamo prove per poter dire che siano questi veicoli no sono io purtroppo non abbiamo prove per poter dire che sono loro dov'è? ma allora c'è una partita indietro comunque di che sub state parlando? cancero di bianco adesso sta andando verso fuoricittà scieriffo gira a sinistra e poi a destra ok c'è la davanti che direzione? autostrada stanno alla grande velocità non c'è niente da fare non c'è niente da fare quale? non ti preoccupare perché tanto non c'è niente da fare ecco bisogna sapere che è lì ecco erano uno di quei sospettati che ci seguiva in autostrada prima non c'è niente da fare non c'è niente da fare vabbè andiamo identificate lo sceriffo per favore voglio andare? tutto ok? ok? si tutto è posto ora ragazzi ok grazie di nulla ora ragazzi ne andiamo a paleta Aggiornamenti riguarda Paul Jackson e compagno Mario Aia E' meriti Eh, quanta sirena è però Salve Salve Un attimo che vado indietro per segnalare Ok, vedete qua, stop Chiedi scusa a Carlo Tutto bene? Sì, ascolta, la devo portare fino a giù, vero? Non ci stanno meccanici, ho chiamato tre volte Eh, sì Qui non si può Pericoloso qui Vediamo un'ambulanza? No, no, tranquilli Ti vado a zappicare No, non rispondo nei meccanici Ci metti troppo a portarla giù Cioè... No, ragazzi Vabbè, la ferma Fermati La segnaliamo noi Con queste Le barriere Le vado a prendere in macchina Sì, metto un po' di coni Tanto ho già preso un cono io Ok, era un medico Ok, ecco la barriere Sì, metto un po' di coni Ah Cos'è barriera 1 o barriera 2? Boh, metti barriera Boh, non lo so quale mettere Oh Non lo so quale partire Sinceramente Non so quale partire Sinceramente Se avessi Dove ero mutato Che barriera devo mettere? Non lo so Oh mio Dio Non lo so Non lo so Sto prendendo fuoco Non più Non più Mi sta guardando Eh, è la macchina Non lo so 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 Ehm Questa è una striscia di coni qua Vedi Sì Sì Sì, metto la barriera Più qua Come? Da posto Andiamo Ok, andiamo Sto Allora Sto Ehm Parigi ho mantenuto l'indietro ho tenuto l'icono intorno alla macchina ho detto io non si vede no no ok 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 signorina è troppo pericoloso salga ho fatto sali salga ho fatto ti porto via sali no stanno volendo a prendermi vabbè ciao andiamo a paletto si si ehm signor paletto che vediamo se troviamo sta cosa strana sta sombricola qui vediamo se c'è la perché ma che è successo di là andiamo a vedere vediamo tutto a posto c'è di fi qui a te bisogno stiamo qui dietro di voi comunque a te bisogno ce ne possiamo andare a posto posto c'è la città vabbè fai l'inversione qui qui controlliamo un attimo a paletto e poi io devo andare fuori città va bene devo tornare a detroit per il weekend bene bene cioè più che altro per domani devo preparare le valigie che domani sera non ci sono ottimo va bene va bene comunque rendi continua così che che mi stai piacendo va bene quando sei andato in polizia tu? due settimane fa forse di più eh molto siamo a tre settimane sicure ma che esattamente il 4 gennaio ah ok quasi un mese un mese tra due giorni tre giorni un mese fai ah alla pace eh dai scorre veloce il tempo eh diciamo che possiamo dire che adesso magari in prossimi giorni impegnati che che il tuo istintivo potrebbe essere un po' vecchiotto quello che è adesso però potrei impegnarti da così che poi adesso parlerò con Elis vediamo un po' questo nuovo grado che abbiamo possiamo spostare qualcuno dal 2 al 3 e qualcuno dall'1 al 2 se c'è l'ufficiale 3 adesso no quindi magari qualcuno dall'ufficiale 2 al 3 mettiamo e qualche 1 al 2 così vediamo un po' che si impegna nei prossimi giorni vediamo un po' un attimo a parte che ho anche il numero del collega non penso ci sia nessuno salve qualcuno salve salve no non c'è nessuno ufficio di drake no ma sbaglio qui mancano i tavolini dei soliti cioè no non ci saranno mai state dagli scorsi no aspetta dagli scorsi proprietari ce l'avevano no 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 ok dopo devo prendere il numero di altre l'agente di patente polizia lo santo spara questa gente quel somerica quanto guardi ero stavano in la sua strada mi sto andormentato mattino in auto e non trovo più l'auto mannaggia sono qua che disastro eh mannaggia che qua sì grazie in centrale ok il taxi è arrivato è polizia polizia grazie era del taxi arrivato è un sim aspetta l'ho visto forse gente inizia sì sono sempre qua sono ho perso il mio gip in autostrada mi sono svegliato non c'ero più eh ok la sento io sì lo so che sta parlando con me sì ho capito eh ho capito che ha perso la sua gip perché si è addormentato un attimo eh non l'avete che l'ha vista no cosa non l'ha più vista l'avevo a zero non è l'intorno magari arrivo arrivo in centrale arrivo va bene vabbè le mando qualcuno per fare la denuncia però io ora non so se riesco a vedere subito questo problema sono a paleto voglio in centrale faccio la chiamata in centrale io non rispondo ok salve che c'è vogliamo salire un po' sopra a controllare la classe sì andate a salutare ragazzi eh ragazzi ricordatevi che voi vede la bollamento gratis eh sì eh sì purtroppo il tempo è poco grazie 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 vado a depositare faccio un po' più guai sì sì farà pure fatta un po' buia un po' buia un po' sì e stai qui a fare gioco vero lui si riva è il tuo socio qua ecco ah dio il gatto è la volta il gatto è la volta veramente beh dopo quello che mi ha riferito vorrei dire a me ma il sceriffo no spiega no spiega spiega pure al tuo compagno qui dai vabbè ah dio ho confessato una verità un po' scomoda io tu ogni tanto di notte vai lì con la carne cruda e e fai le cose ma che cazzo dici quella è elison ah dio io vado a fare ci mando ci mando la controlli sanitari esatto la controlli sanitari è più pulita la carne che isa quello possiamo fermare ci mando il controllo sanitario dello stato poi vi chiedo il locale mi sono annusa per favore sparisci sparisci sono la prima del tempo che fate qua quindi non ci fa un cazzo non c'è un cazzo in giro ormai non c'è molto più gusto di fermarti eh no ora non ti troviamo più ai campi eh buon per te Adriano questa è la no non mi avete mai beccato ai campi è solo la vendita eh già vero eh già vero mannaggia vabbè sono contenta sinceramente sinceramente sono contenta che che sei uscito dal giro tutto merito mio eh sì tutto merito tuo spero che sia uscito spero come spero beh i dubbi non sono mai beh guarda che rischi chi è il titolare su carta? io io è che secondo voi perché tutti dicono che è capolini il titolare comunque io non rischierei mai il posto di lavoro per un po' di minore no ma ma sinceramente non vale la pena manco per il cazzo come anche il posto da meccanico Adriano vabbè ma quello se volevo se guadagnavo un po' di più potevo cambiare ma secondo te è un meccanico guadagna qualcosa da noi no assolutamente no vabbè vendiamola comunque questa è una bella copertura ciao Adriano arrivederci e niente mi hanno raccontato un po' della sua ex storia eeeh ne ha passate voleva entrare anche in polizia veramente? sì però prima di avere tanti reati e poi ci ha aiutato tanto in qualche caso se non sbaglio eh prima non faceva adesso quando c'erano ancora i tenenti eh sì se non erro facevate come non lo so l'informatore l'informatore penso di sì troppo forte non ho visto una macchina veniva in città no io ero bene riflessi eh io non ho visto che hai tanti bei riflessi la mia auto è in città torniamo in centrale oh sì ok va bene guarda che io ho la sfidecetta oh sì ok oh sì ok 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Dici quattro, comunque ha deciso al furto perché quando ha avuto un mancamento di testa in autostrada e poi non ha più ritrovato la sua auto. Ciao Alison. Ciao Emily, dimmi. Sì, 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 ci vediamo qua, ti aspettiamo, ok? Ciao tesoro. Perché ce l'ha pure l'auto? Bene. Tu mi hai la forcità? Sì, mi hai la forcità. Ok, perfetto. Sì, vedo il mio volante adesso. Ciao, buonanotte. 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 è già la mercedes cazzo io non guidavo da giorni non guidavo era giorni che non guido grazie a me cos'è che c'è qua che belli eleganti la radio la radio cos'è che hai detto soprano basta prendere la whisper cazzo mettete in altro bussante ehi ciao ciao tesoro come stai? non ci vediamo ieri ho fatto un'ecografia di controllo amore e guarda il momento tutto bene non si sa ancora il sesso prossima settimana dovrei fare il controllo quanto manca? adesso sono la diciottesima settimana sono nel quarto mese quarto mese eh sì ho la pancetta però insomma è che sono tre sei grassa tra poco mi zinta è grassa sono tre cipolle quindi si vedono ecco quello è il problema no ma comunque sono contentissima grazie tesoro stanchissima in questo momento ma immagino prima ti sei dimenticata di venire a prendermi per caso? sì scusami parca puttana Emily amore ho chiamato Emily prima per venire a prendermi ci credi che si è dimenticata? io che mi dimentico delle cose oddio devo essere stanchissima e niente l'ho richiamata io e gli ho detto ma non serve che vieni lei oh cazzo Ellison scusami cioè io potevo stare là in eterno ad aspettarti rendi conto e vabbè e guarda ho appena appreso qualcuno ha denunciato un agente devo gestirmi e non posso dirti troppo ah ok una persona ha denunciato un agente devo capire bene come sono delle cose la gente in questione non aveva la bodycam quindi qualcosa contro di lui oddio un casotto in sostanza ed ero occupata per quello emotivo lì mentre mi chiamavi e ci sono stata un 40 minuti in centrale a discutere capito capito noi abbiamo fatto un giro con la barca a vela vedi quella là sì è un po' arenata eh sì Mark non è riuscita c'era un po' di vento diciamo che non ieri ho preso ieri no abbiamo capito perché me l'ha imprestata me l'ha imprestata un ragazzo la sua barca e mi sa che non la so guidare tanto bene mi sa che io è perché non capivo come cazzo si ieri ho navigato io ieri sì ieri ho preso andato a via la mia barca sì sì io ieri con la moto con moto d'acqua sono andata ieri però sono moto d'acqua ieri mentre le segui come dei criminali mi inseguendo via acqua ormai è successo ma Emily ma ste divise non lo so non sono convinta un po' abbastanza da cagare sì è un po' da vecchia questa divisa qui viene però ci sta un po' con una cambio look sinceramente ok però non lo so camicetta bianca che cosa amore posso spogliarmi sì ti puoi spogliarmi no Mark spogliati amore se senti la necessità perché lei mi piace mi dicono mi spogliarmi ma comunque no la camicetta bianca e la cavataria c'è sempre i miei completi ah così sei bellissimo amore oh sì oh sì vabbè tu hai tirato un po' da divisa questa è una divisa porca troia eh vedi che vabbè mi mi sto sempre così io non ti ricordi che c'ho io c'ho questa divisa qui con la camicia bianca però camicia bianca era sergente camicia bianca era sergente in teoria però oh sì che bello che sei oh che bello che sei oddio oddio eh eh mi dispiace io ho un fascino per la divisa quando Mark in divisa io non capisco più niente grazie comunque no vedi io mi sono messo il meglio possibile mi sono messo la camicia bianca con la cravatta un attimo che è insulto soprano soprano porca di una puttana ste cazzo di vani soprano scusa niente no perché perché vuol dire le mani la radio porca troia in che senso le mani niente perché preme per sbagliare la radio e mi fa impazzire scusa un attimo scusa pronto sopra ho messo la radio punzante della radio troppo madonna no Mark cazzo hai perso i vestiti ma si vede si vede si vede il tatuaggio no però hai perso i vestiti eleganti hai perso oh hai perso i vestiti eleganti dove sono perché tu non l'hai mai utilizzato la roba là no i vestiti eleganti diciamo ti metti in divisa ti metti in divisa no io no ascoltami ti lasci sta visita ti spogli come così poi ti cambi di abito ho una casa io eh? ho una casa io eh lo so ma se tu hai bisogno in velocità ti ricambi di nuovo e c'è la divisa addosso capito? se ti lasci in casa in effetti i trucchetti di Mark mi piacciono solo che il problema è che io adesso mi sono rimesso in divisa non posso più ritornare con quell'altra se no mi rimetto così eh è questo si si nota che torna in divisa non può più ricambiarti mi darei la morfina la morfina no se gliel'hai già data la morfina non dargliela ancora però finché sei off io adesso potrei mettermi in costume e andami a negozi vestiti mi ricambi di nuovo ok ci sentiamo a presto ciao ok scusate quando stavamo parlando si la divisa vedi lì mi sono messo la divisa mi sono messo la camicia bianca la carota nera li senti il collo mi stavo spiegando come mettersi la divisa sotto i vestiti normali quella cosa che hai spiegato a me che non lo sapevo poi dopo mi sono messo la giacchetta qui che è una delle nuove giacchette in dotazione della polizia che sono arrivate le scorse sei giorni qui sono arrivate i pantaloni sotto la divisa eh si è proprio ti faccio vedere cosa ho sotto la divisa non puoi più ricambiarti poi eh vabbè rimanete in visa rimanete fate come volete eh ecco adesso rimanete rimanete così eh lo so vabbè tanto ciao ciao però secondo te veramente sono brutte le giacchette nuove in dotazione dell'SPD sai cosa sembri 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 un paramedico ma come perché è la giacca da paramedico scusa è la giacca da paramedico scusami no è la spollizia che è la polizia sì ma non hai capito la forma della giacca ricorda intendo la giacca di un paramedico capito ma sono nuove nuove divise arrivate in dotazione nuove giacche volevo provarle me le sono messe però sinceramente è bellina ma non tanto non troppo comunque Emily sì il 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 è diventato un puttanaio perché è pieno di quelli pezzi di merda ma tanto domenica se ne vanno a quel posto quindi di chi è il telefono non è mio il tuo pronto ok considera che c'è un tizio che si è venuto da me che si è venuto vicino a me cosa bello no è che suona il telefono suona il telefono a Mark che gli fa di chi ha il telefono hai fatto così lo sai Emily cazzo ti vivrà nei pantaloni sarà il tuo porca troia esatto ascolta ascolta ma aspetta la cosa bella siamo andati prima al vanilla c'era un tizio che mi fa ci mettiamo d'accordo quando hai partorito vieni da me che ti metto in cinta io sto giro ma ti giuro mi ha detto così chi era non lo conosco è un tizio che girava con credo gente che parlava spagnolo non lo so e niente ora veramente che cazzo di gente c'è in giro guarda te scusa mi mangio ho una fame assoluta le foglie non capisco ma secondo te è normale che uno viene da te e ti dice la prossima volta appena partorisci vieni da me e ti metto in cinta io ma che cazzo di discorsi sono e poi come se non bastasse lo vai a dire anche a Mark ma che cazzo Mark gli ha risposto non c'è niente da da mettersi d'accordo cioè ma ti pare mio dio mangerei di tutto aspetta posso non c'è qualcosa che per mangiare se ne rendiamo conto io non lo so se uno viene con una ciambella eh lison basta mangiare che niente grassa ho capito ma ne ho tre da nutrire ma non mangio tutto quello qua mi mangiano tutto quello che ho ah già è vero e segue dei bratwui sono cinquanta milioni appunto non ho tre ma io lo mangio ma mi sembra che non mangio mi spero di non fare come una mamma soprano solo figli maschi oh santo dio no ti prego la madre soprano ha fatto solo figli maschi speriamo che non faccia anche tu resta figli ma che è una maledizione tipo concludo con la cioccolata vuoi la cioccolata emily non faccio vedere le M&M's in tasca Senti che è mense Amore Amore sto mangiando una finta Amore un pezzo di cioccolata Mi sta mangiando una cioccolata alla barretta intera Mangia, mangia Mangia C'ho qua Edison Mmm, anch'io, senti Mmm Sì, ciao ci vediamo Ma sei sicuro di non essere pure già incinta? E chi l'ha messa incinta scusami Non lo so Mmm Ma non è quella volta la che... Mmm Mmm Eh? Mmm Cioè io ho mangiato una ciambella, una cioccolata E un sandwich, io ho ancora fame Sì Marco ti prego stai fermo Ma poi tu... Cioè ma chi... Chi mi aveva messa incinta scusami se io sono vedua da un po' ormai Cioè mi sei raccorta anche Ma in che senso bello va scusami perché obiettivamente... Cioè... M'hai risposata? Cioè no, è stavamo insieme Eh appunto... Sì a vero non so come si chiama la persona Non sei divorziata Sono divorziata e vedo va da Mike È il momento di rispolverare le ragnatele Ma sei rivedo... Ah Sono divorziata dal mio ex marito E vedo E vedo va da Mike Ma eravate già sposati? Ma bisogna di... No cioè no E vedo va inserire fidanzati, compagni ma non sposati Non so Deve rispolverare qui sotto le ragnatele amore Te lo dico Sì per favore Ma a chi la potresti dare? Trovarlo un buon uomo che possa... Possa meritarsela Pasquale Che cosa sta dicendo? Madonna Elisa Pasquale no, ti prego Pasquale è un bel uomo Perché no? No E' un po' strano Perché no Pasquale scusa? E' un po' più valle Luigi è anche un buono però eh Se vogliamo parlare soprano Luigi è un po' un bel buono Pasquale secondo me è perfetto No lascialo stare Pasquale Pasquale è perfetto No Emily no Fidati no Eh Demi però stai con quel cazzo di... Sì 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 perfetto Andiamo a parlare con Pasquale dai Dica che non incito io Emily no No Pasquale Beh non è un male... Non è male Pasquale Però... No no sì cioè sì ma no Un gran pezzo di... Di gnocco esatto Mamma mia Dicevo... Lascia... No Pasquale no Ma perché no? Perché è tuo? No non è che è mio Poi... Poi se si impegna non... Non mi scrive più un casino Ma come di te primi c'è mai che cazzo? Cosa? Cosa? Cosa c'è da dire se poi si impegna non ti... Non ti scrive più eh? Nooo... Cosa vorrei dire con questo? Cosa c'è da dire? No Espitamente... Se diverò strusciare sulla mia ipotetica figura maschile Compagna allora... Qualcato lì si diventa gelosa ma se... Esci o parli o scrivi con mio ipotetico fidanzato no Ah ok allora va bene, ok. Ok. Sicuramente dobbiamo vedere la cosa Però... Vabbè... E vai e allora se vuoi ti... Non lo so se Pasquale... Pasquale era interessato a... Mi sembra... Fammi pensare a... La signorina White però White? Si è mi ha scritto mi 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 ha scritto so che ti serviva a sapere di una tizia coi capelli rossi e corti non so se ti serve ancora qualcosa e non so per cosa ma è qui al vanilla la ubriacona la elison sì sì credo che non so se le faremo fare un tso perché ha problemi di alcol piuttosto forza qualizzata sì moltissimo cazzo ci hanno già chiamato più volte hanno chiamato anche gli sceriffi ma malissimo gli sceriffi non vogliono più avere niente che fare con la cosa hai finito il caffè e vi volete suicidare niente niente cazzate mi sentite sì sì ecco ti sento ti sento eeeh vabbè comunque sia eh però facci con pasquale se non ti posso lì no vabbè ce l'hai in radio digli di uscire no? Pasquale mhm ci potrebbe stare mhm 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 impara a guidare però proprio parliamo Emily mhm Emily quando mi parlano via radio voi non avete uffa mi piace a me Pasquale non voglio che ti metti con Pasquale poi non mi caga più uffa poi non mi guarda più Pasquale è un bel uomo ecco però sinceramente sinceramente Pasquale non c'è c'è mhm è speccato da solo cazzo quanto mi ispira ma è presente sesso sul muro proprio cazzo ridi è la verità santo dio come quello che cattete Mark nel garage di casa mia si esatto oh santo dio quel codino presente mmm i capelli di bambini sinceramente non mi piacciono eh no il codino no meraviglia oh ciao Mark ok si è spogliato lo sai che io odio il mare non ti sentiamo amore spogliati spogliati no io odio il mare no Emily spogliati non ho il costume non ho il costume nudi nudi ma che nudi oh nudi oh ma è nudi oh aspetta chiamiamo Pasquale aspetta vediamo un attimo sei libero no allora Pasquale Soprano dovrei averlo minchia ce l'ho alla fine della rubrica ti rendi conto Pasquale ah ok vuoi venire al mare con noi? c'è Emily io Mark chi ti vuoi ma che c***o c'è settivo il telefono che c'è chi è che lo vuole menare? che è successo? oh chiedivi se sta bene Pasquale ma tutto bene chi ti vuole menare? aspetta no niente me ne ti stimola me eh rispondi a Alison al cellulare e richiamalo oi stavo dicendo prima che qualcuno ti menasse vuoi venire a fare un bagno con me Mark Emily arrivano arrivano chi arrivano? arrivano chi? il plurale chi? chi? tutta la famiglia tutta la famiglia soprano al completo però arriva anche Pasquale no Emily tranquilla tutta la famiglia aspetta che mi ha scritto quindi sono in 15 vado a mettermi un costume allora arrivo subito arriviamo mi ha scritto ok vado a mettermelo anche io il costume arriva Pasquale vieni 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 che arriva Pasquale vieni ma io vado a mettermi un bel costume al negozio di vestiti eh quelli vado a mettermi un bel costume al negozio di vestiti quelli vado a mettermi un bel costume al negozio di vestiti quelli vado a mettermi un bel costume al negozio di vestiti eh vabbè ci metti vent'anni però eh in effetti vabbè mi metto la divisa lì anch'io dai vabbè vabbè i voli andiamo al mare in costume ma niente mi dico in costume madonna che imbarazzo mamma mia che brutto questo studio è terrificante no, che poi no, no, così, sedetevi, oddio che fredda l'acqua madonna, oh ma parlate voi o cosa? eh ti stavamo guardando sei bellissima, eh mi mettete in disagio perchè incroci così le braccia? come così? ah ma è proprio così la posizione che incroci no, 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 no io le vedo con le braccia incrociate mi sa che arrivano per quando c'è il tramonto niente che cosa intendi? tra poco devo andare via io però, porca puttea domani ho la sveglia alle 7 e 15 eh, sei giovane eh, una minchia giovane non mi sveglierò mai, ho già capito no, no, non posso, troppo tardi, no, sono già stanca ora eh, le sono aspetta Pasquale, aspetta Pasquale e che ci faccio? però parliamo qui tra mezz'ora, parliamo di 10, dio mio chiedigli fra quanto arriva, ce l'hai in radio? nooo cos'erano sti versi? c'è, c'è, ehm ehm che era sto verso? che verso ho fatto, amore? sembrava un verso molto... dove sei brutto stronzo? sto arrivando perfetto no e niente, hai messo, vabbè mi hai messo, mi hai fatto un bagaraccio, mannaccia hai messo, hai premuto mi dispiace, scusami, mi è scappato che mi hai preso a con... mi hai preso a con... mi hai preso a con... hai fatto un verso molto... molto... cioè dire, si può sentire, diciamo, molto... in certe situazioni molto hot, un verso di quelli molto... in cui... chissà cosa ti succede in quei momenti in cui fai quei versi ehm... ehm... amore, ehm... non so, dimmi tu... Emily, che cazzo stai dicendo, porca cazzo... cioè... hai parlato... hai fatto un verso molto... ma chi ha fatto un verso? lei... tipo... ma che cazzo stai a dire? non ha fatto nessun verso... ehm... che ti mangio... vado ad andar via, sarà poco... vieni qua vicino a me... no, no, tu hai paura... vai vicino a me... vieni vicino a me, dai... vieni più che canta a me... raccontami una delle tue storie... ah, è stato il tuo culo l'ho visto... ci facciamo delle luci insieme... t'ho visto già il mutano... raccontami una delle tue storie di quelle... quelle... quelle qui... qui... d'altro canto... ehm... amore... eh... ehm... tu come... come ce l'hai? io? in che senso? non mi ricordo mai... tesoro... ehm... se non te lo ricordi... amore... pull... tu come... pull... si... pull... no... a naturale? quel... quel filino? as... ascoltami... ehm... l'hai... l'hai vista amore? provo a pensare un attimino... so che era buio... ma l'hai vista... discorsi a... quanto... strani... e in tanti soprano non arrivano... è uguale... dai... dai... allora Mark... non dirmi che non hai presente... Mark è vecchio... Mark sei vecchio... non ricordi più nulla... cioè praticamente lui... 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 lui mi tromba senza guardarmi... capisci? si... guardo... guarda quello che trova... importante che ci sia... però... però amore... dimmi... Mark... dimmi amore... dimmi Mark... oh... comunque... comunque quella di Emily... no... ma... 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 cioè fammi capire... quella di Emily te la ricordi... e la mia... vabbè io vado... io vado... e vengo con te... l'ho vista più quella tua... che quella tua... vengo con te... vengo con te... guarda veramente... sono scioccata... io non ho parole... cioè... riguarda la mia... ma... io... io... sono senza parole... sono senza parole anche io... cioè... ehm... oggi in poi... mi... metterò... insomma... mettiti il costume per andare a fare la doccia... perché sennò... come fanno i bambini quando si vergognano... ti guarda la patata... sì... infatti... come i bambini che non si vergognano... quando... sono piccoli... che hanno il costume nelle docce... ma... si... però così adesso... veramente... ma... sono alibita... alibita... ma quei soprano cazzo... sono sempre a ritardo eh... guarda... c'è la luna... madonna che bella la luna... guardala... è enorme... è... 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 ah non credo che verrà più pasquale ma è meraviglia io però penso veramente a tardi vedi domani ho più tempo domani yoohoo che so che ci soffo come che fai un caos ma io vado marche ti accecco la prossima volta che dice cosa del genere ti accecco la prossima volta che dice cosa del sei e me li sta per andare guarda che ti do uno schiaffo sul sedere se non te ne vai via ok ti aspettiamo sta arrivando questo rotto le palle di aspettare round one fight riesco manganello vabbè è lì io vado ma devo andare tardissimo azzare sette e un quarto domani sette e un quarto sai che significa a lavorare barbù no non vado a lavorare però a lavorare barbù no non vado a lavorare ma guarda che anche marche si alza presto domani a lavorare barbù ma che ora marche ti alzi tu vai il turno otte e mezza sette e mezza sette sei quarantacinque sei quarantacinque lavoro fino alle sedici e trenta io invece ho due sveglie la prima ce l'ho alle sette in punto anche tu e la seconda alle nove ma la prima sveglia che serve la prima sveglia serve a come te lo spiego faccio da aia faccio da babysitter a una bimba e quindi la devo cambiare le devo dar da mangiare e tutto e dopo la seconda sveglia alle nove perché dopo la prima collasso e quindi più o meno così io vado mi dispiace ciao Emily ciao ti ho avuto un attimo di ansia di darti un pugno ma alla fine no no ti prego ci vediamo ci vediamo buonanotte ciao Alison ciao tu Mark ciao ci vediamo ciao ci vediamo come ma che facci dai un bacetto mi raccomando Emily che c'è non rasare troppo ma va beh Alison io scappo va che c'è va beh ciao ciao Emily ciao 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 sto stanchissimo ragazzi cioè e se ho ancora 42 persone insieme domani durerà un po' di più la live perché domani sto sto fino alle 2 però c'è raga c'è solo le 1 domani sarà 7 e un quarto io non lo so io non ho idee non ci voglio pensarli come mi alzerò domani ma poi ragazzi io vi ringrazio tanto poi ho guardato la live ci vediamo domani con un altro episodio ci vediamo domani mi raccomando grazie per aver rotto la live e ciao a tutti ciao dammi buonanotte grazie per aver guardato la live